Possiamo cominciare? Buongiorno a tutti, sono veramente molto felice di presentare e introdurre questa giornata di studio dal tema Ripensare Hegel in dialogo con Vincenzo Vitiello. Io toglierò giusto un paio di minuti agli interventi per i ringraziamenti, per indicare alcune motivazioni che ci hanno spinto a me e Antonio a organizzare questa giornata di studio e per definire un po' l'organizzazione generale degli interventi. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare il professor Vitiello per essere qui e risposto al dialogo su questo tema che ha così tanto frequentato e un ringraziamento chiaramente all'istituto per aver accolto subito con entusiasmo questa proposta, i relatori che interverranno e il centro di ricerca di Aporein che ha collaborato appunto alla realizzazione di questo evento. Per quanto riguarda le motivazioni, io e Antonio abbiamo pensato che per la ricerca filosofica fosse fondamentale ripensare i luoghi più aporetici e controversi del pensiero di Hegel, abbiamo pensato che per farlo fosse necessario in un certo senso rimetterci in dialogo ancora una volta e di nuovo con Vincenzo Vitiello, il quale ha avuto infiniti meriti in questo ambito di studio, ma forse uno dei meriti maggiori è quello di aver portato l'attenzione sugli spazi abissali del pensiero di Hegel, appunto su quegli spazi che in un certo senso sono stati visti e subito nascosti dall'autore, quegli spazi che in un certo senso eccedono l'onnipotenza dell'idea o quel panologismo che riduce l'essere al pensiero e che chiude ogni spazio alla logica del possibile, ingabbiandolo in quello che potremmo definire il destino della necessità. Al contrario invece Vitiello tramite il suo approccio topologico che costringe il linguaggio hegeliano a porsi in tensione con gli altri grandi nomi della storia della filosofia, da Agostino, Heidegger, da Spinoza, Spaventa per citarne solo alcuni, è riuscita a non cristallizzarsi in una sorta di dogmatismo hegeliano che avrà sicuramente molti meriti, ma forse non apre tutte le piste intellettuali che invece Vitiello è riuscita ad aprire tramite questo approccio topologico. E infatti Vitiello è riuscito ad andare con Hegel e anche forse contro il suo pensiero, contro la sua parola esplicita e contro le intenzioni dell'autore, illuminando in un certo senso quegli spazi abissali che inquietano la vita dello spirito che invece, a detta di Hegel, non si riempie d'orreo e dinanzi alla morte, sopporta la morte mantenendosi in essa, convertendo appunto il negativo in quell'onnipotenza dell'idea. E per sintetizzare in un certo senso quello che è il confronto di Vitiello con Hegel, mi sembra che possa essere citato un passo di Hegel in Italia, in cui si dice, non il pensiero hegeliano, bensì il problema affrontato da Hegel, e si sta parlando della relazione dell'identità di essere pensiero, funge da criterio di giudizio, criterio quindi che vale per giudicare lo stesso pensiero hegeliano anche riguardo alla sua formulazione e impostazione. Ecco quindi che in un certo senso Vitiello va con Hegel, ma anche contro Hegel in qualche modo, cerca in un certo senso di valutarne le titubanze, le incoerenze, le incertezze, così che in un certo senso emerge un altro Hegel, che anzitutto Hegel vuole contrastare e respingere, anche questa è una citazione di Hegel in Italia. Quindi in un certo senso la topologia e questo andare con Hegel oltre Hegel sono sembrati secondo noi due punti fondamentali per ripensare appunto la dialettica hegeliana. Infatti la topologia in un certo senso ha questo di caratteristico che spazializza il tempo, perché appunto se il tempo nel suo movimento esclude, invece lo spazio apre una sorta di orizzonte comune che rende compresenti le diverse epoche del pensiero e anche i diversi sistemi dei vari autori. E appunto questa compresenza rende possibile quello che è il linguaggio topologico, una sorta di metalinguaggio che in un certo senso con una categoria gramsciana potremmo dire rende possibile la reciproca traducibilità dei sistemi in linguaggi differenziali. Appunto un linguaggio che in questo modo permette di mostrare quegli spazi, quegli orizzonti intellettuali visti e subito nascosti dall'autore, da Hegel in questo caso. E sempre per citare Vitiello, questa volta alla topologia del moderno, afferma Vitiello che il linguaggio topologico è un linguaggio di linguaggi, che parla di Hegel con la lingua di Agostino e di Plotino con la lingua di Schelling, che parla di Heidegger e Derrida con la lingua di Empedocle e di Empedocle con la lingua di Heidegger e Derrida. Ed è appunto tramite questo linguaggio che Vitiello è riuscito ad aprire questi spazi abissali, in un certo senso, dell'autore. Infatti Hegel nella spasmodica ricerca di revocare ogni alterità nel pensiero, in un certo senso non può che scontrarsi contro una differenza assoluta e aporetica, potremmo definirla. Infatti Vitiello ricorda spesso che l'identità di essere e pensiero è sempre detta dal pensiero e mai dall'essere, che invece in un certo senso rimane indefinibile, impensato, irriducibile anche alla stessa categoria di essere. In questo senso appunto si apre questo spazio abissale, che potremmo dire, si apre questo orizzonte della finitezza, un nulla che va contemplato ma in un certo senso non va razionalizzato o dominato come invece ha cercato di fare Hegel. E in questo modo si apre quella logica del possibile tanto caro a Vitiello, che rende possibile appunto la possibilità possibilitante che potrebbe essere definita come una sorta di stato di eccezione di ogni meccanica necessità e che rende possibile anche una diversa declinazione del concetto di libertà, non appunto come autoesposizione di sé, ma appunto come decisione. E da questo punto di vista mi sembra che l'Egel di Vitiello, questo Egel degli Abissi, questo Egel che va oltre Egel in un certo senso, non possa che parlare con il linguaggio di Heidegger. Anche quando non è citato mi sembra che in un certo senso la presenza di Heidegger sia ovunque nei testi di Vitiello. Però qui c'è una grande differenza metodologica tra Vitiello e Heidegger per quanto riguarda il rapporto con la tradizione e anche per quanto riguarda il rapporto con Egel. Perché appunto se Heidegger per andare oltre Egel in un certo senso doveva operare un salto, un salto oltre tutta la tradizione metafisica e ontoteologico occidentale, appunto per ripetere la domanda sull'essere e sulla verità, al contrario Vitiello tramite il suo approccio topologico è riuscito in un certo senso a porsi all'interno della tradizione, a porsi all'interno di Hegel e a mostrarne appunto anche quegli orizzonti visti e forse non tematizzati dall'autore. E quindi queste sono le motivazioni che ci hanno spinto a organizzare questa giornata di studio sul appunto un ripensamento di Hegel ma di nuovo e ancora in dialogo con Vincenzo Vitiello. Per quanto riguarda invece l'organizzazione della giornata, ogni intervento durerà circa 40 minuti, ci faremo una pausa di 10 minuti dopo l'intervento del professor Valagussa e poi ci sarà l'intervento del professor Adinolfi e le risposte e le conclusioni di Vincenzo Vitiello. Adesso cedo la parola ad Antonio che ringrazio moltissimo perché senza di lui non staremmo qui forse. Spero che non abbia aspettato a me che parli tanto quanto viene concesso. Avrò poche cose da dire. Speriamo che dopo magari... La cosa più importante è il ringraziamento a voi per aver organizzato questo momento per me felice che anche mi caratterizza perché si ritorna a parlare di Hegel con me quando sono diventato un trasfuga avendo per tutta la vita ballato con Hegel e con Kant eccetera eccetera non sapendo quando ballavo con Hegel ero totalmente hegeliano quando ballavo con Kant totalmente cadiato e sono stato come dire la mia vita è stato come dire un pendolo tra questi due nel momento in cui il pendolo si è fermato su Kant che è stato l'ultimo lavoro teoretico su cui ho dedicato molti molti anni di studio mi fa piacere però parlare di Hegel perché di parlare di Hegel è qui perché la prima edizione dell'Hegel in Italia è stata voluta proprio qui da Gargano che mi ha aiutato ovviamente dal quello che ha costituito che ha realizzato questa istituzione ma ha aiutato moltissimo anche da Gargano quando ha avuto una presenza notevole in questo istituto quindi sono veramente grato di tutto questo e poi cercherò di dire qualche cosa che riguardi non il trascurabile di Tielo ma Hegel e Kant e perché anche questa svolta che peraltro avendo avuto mi ha consegnato lei il libro su cruce no no non sono stato dunque uno dei presenti che ringrazio mi ha presentato poco eravamo già in questa stanza mi ha presentato il mio primo libro scritto è quel libro che io dico che è stato un peccato puerizzi insomma è il libro su cruce ma io ho incominciato a studiare su cruce Hegel a partire da a partire da cruce e questo è stato anche come dire all'origine di tante mie incomprensioni di Hegel che poi ho veramente superato alla scuola di Lugarini mi taccio qui per dire ringrazio voi che siete qui a sentire uno che parla su Hegel dopo che si è allontanato da Hegel ma la mia vita è stata come dire un pendolo tra i due ora il pendolo è fermo su Kant e già che è fermo su Kant sto litigando per una vita con un kantiano ma insomma voglio dire perché è presente qui è la cosa che più mi dà come dire mi dà forza di continuare insomma perché se trovo uno che mi che mi contesta beh penso che la cosa che ho scritto in fin dei conti andava scritto insomma cioè arriva la arriva la grazie 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 mille a Raffaele al professore per quanto possibile cercherò di tirare fuori quantomeno qualcuna delle dell'eliti io io innanzitutto volevo appunto unirmi anch'io nei ringraziamenti ringraziare l'istituto per la possibilità di di questo evento ringraziare Raffaele per averlo pensato per averlo proposto per avermi incluso nell'organizzazione e per avermi anche voluto tra tra i relatori ringrazio gli ospiti e i presenti e ovviamente il il professor Vitiello e per prima cosa confesso tutto quanto il mio il mio imbarazzo a essere a essere qui a discutere con a discutere con voi di queste cose in primo luogo per il debito incalcolabile che ho nei confronti del del professor Vitiello dal punto di vista dei miei studi in generale e in secondo luogo imbarazzo dovuto anche alla difficoltà di di tenere dietro a un interrogare a una pratica filosofica interrogante come quella del professor Vitiello così seria ma userei anche la parola la parola implacabile da questo punto di vista alla luce di questo imbarazzo l'intervento che svilupperò vuole avere soltanto due obiettivi il primo di tentare anche per l'intellezione del rapporto Egel-Vitiello e per aiutare le relazioni successive di dare una panoramica mettiamolo in questi termini del confronto del professor Vitiello con Egel panoramica nel senso più più lato possibile diciamo che semplicemente vorrei mettermi in mettermi nella posizione di questo confronto e guardarmi attorno e poi vorrei appunto approfittare di questa panoramica se riesco per tirare fuori almeno un punto una domanda che è in fondo che è in fondo no non una critica ma una una domanda su quello che rimane un punto secondo me molto problematico dentro il discorso ora parto dalla scelta del titolo che è data la relazione cioè il tutto e le parti tra Egel e Kant e inizio proprio dal sottotitolo perché come il professor Vitiello ha lui stesso accennato adesso Egel e Kant rappresentano in fondo i due fuochi del suo filosofario in generale ma credo anche del suo confronto con Egel e questa è la cosa che vale la pena di mettere in luce e poi il tutto e le parti tutte le parti ho scelto questo titolo come indicazione di un problema e cioè proprio come un un binomio per cercare di arrivare nel modo più rapido possibile a quel problema della posizione di principio cui facevo riferimento prima forse sarebbe stato meglio nei termini del libro su Kant parlare di totalità e di prospettiva forse sarebbe stato meglio ancora parlare di verbindung e nicht verbindung in linguaggi che lì hanno unione e non unione però ho preferito comunque tenere il tutte le parti perché mi sembra che il nodo problematico emerga più chiaramente se si adimira la dialettica tuttoparti la dialettica tuttoparti come il professore stesso dice in Egel in Italia in quanto particolare modo di declinare il problema più universale del rapporto uno molteplice in ciò questa esposizione mi scuso ma spero che l'esposizione giustificherà la cosa da sé in realtà Kant sarà un po' più presente di di Egel e lo sarà alla luce di una domanda guida che voglio porre sin da subito cioè rilevato e faccio un discorso all'apparenza poco topologico ma c'è una ragione topologica alla base che a partire dall'84 il confronto del professor Vidello con Egel avviene sempre a partire dalla tesi per cui bisogna pensare Kant dopo Egel il giudizio dopo il sillogismo in che modo Egel esce mutato da questa inversione in un modo o nell'altro l'altro Egel che lavora contro Egel cui faceva riferimento prima Raffaele nell'introduzione è un Egel come minimo sollecitato da Kant in reazione a Kant questa reazione mi sembra il primo punto da cercare da provare a mettere in discussione per parlare anche del modo in cui il professore ci permette di pensare Egel e qui sempre in senso cronologico e non topologico o forse anche topologico rilevo innanzitutto un dato di fatto temporale cioè che Egel in Italia nella sua prima edizione risale al 2003 e si situa a metà esatta non so se lei se n'era accorto tra Edo Sedero Sinegel e Kant che è dell'84 19 anni prima e il Kant Buch che invece è della fine del 21 18 anni dopo data questa posizione mediana di Egel in Italia ho pensato che avrebbe stato opportuno se non interessante soffermarsi sui due estremi e cercare di vedere come la posizione del problema Egel per il professor Vitiello sia influenzata dai due lati dal confronto con Kant e da questo punto di vista muovo innanzitutto dalla premessa di Etos Sederos e dal modo in cui il professore definisce questo che comunque è un binomio inusuale soprattutto se si parla di Kant per cui Etos indica il professore dice la dimora lo spazio del pensiero mentre Eros sta uso direttamente le sue parole e il nome o meglio la metafora per indicare l'altro del pensiero l'altro che si sottrae al pensiero e al linguaggio e che tuttavia assoluta certezza è del pensiero e del linguaggio mi sembra che in questo già solo attacco di Etos Sederos stia non soltanto la posta in gioco per il professor Vitiello del rapporto tra Hegel e Kant ma in generale ciò che va pensato cioè proprio il rapporto fra il pensiero e l'altro fra il pensiero e l'alterità restando in Hegel e Kant e a voler riassumere con una battuta quella che è la tesi del libro mentre in Hegel il rapporto fra il pensiero e l'altro è dialettico e dialettico significa che Hegel tenta di portare l'altro all'interno del pensiero e di pensarlo come sua molla in Kant questo rapporto risponde a una logica completamente diversa per cui in un modo o nell'altro il pensiero si trova semmai esposto alla sua alterità si trova a doverne fare i conti e a dover fare i conti con un'alterità che lo trapassa dall'interno che gli sfugge sin dall'interno questa differenza a fine testo viene semplificata nel modo più chiaro possibile rispetto al rapporto dell'uomo con la terra in Hegel e in Kant alla fine citerò queste pagine però preferisco andare un attimo con ordine e riassumere brevemente proprio per dare la panoramica di cui parlavo prima il percorso argomentativo si sviluppa in due macro momenti fondamentalmente un primo tutto interno a Hegel è di definizione di quello che è per Hegel lo spazio dell'ethos la dimora del pensiero e il rapporto in cui questa dimora sta con quell'alterità e un secondo che invece a partire da alcune difficoltà interne al discorso eglediano poi precipita in Kant e ottiene in Kant una riproposizione un altro modo di guardare alla cosa il punto di partenza che vale per entrambi è il discorso di Aristofane nel simposio che il professore interpreta mostrando come lì sia in gioco la stessa nascita della coscienza e la nascita della coscienza da uno stato di scissione questo stato di scissione è fondamentalmente lo stesso da cui parte Hegel nella Differenzschrift tanto che il professore può dire quella che mi sembra una frase molto felice la filosofia ha in Hegel la funzione erotica di riunificare ciò che è stato diviso diviso da che? dall'intelletto e qui il problema hegeliano già in questa semplice battuta trovo una ben precisa formulazione perché diventa problema dell'unità di questa scissione soprattutto per pensare l'unità di questa scissione del rapporto fra l'intelletto e la ragione tenendo presente la positività dell'intelletto da un lato e dall'altro il fatto che la ragione non deve produrre l'indifferenza ma se è tale se è superamento dell'intelletto è perché è capace di pensare l'unità come unità nella scissione e unità della scissione e qui il professore cita quella che credo che non avrà nessun dubbio a riconoscere che lui considera la parola fondamentale di Hegel cioè che bisogna pensare di verbindung der verbindung und der nicht verbindung cioè l'unione di unione e non unione il problema hegeliano viene individuato in questa questione qui e a partire da questa questione viene riproposto proprio come problema della dimensione etica dell'uomo della dimensione che l'uomo si trova ad abitare riassumo molto rapidamente i passaggi questa dimensione etica viene mostrata dal professor Vitiello consistere in Hegel in un recupero intanto da un lato di Spinoza e dall'altro lato secondo un movimento circolare per cui ci sono due movimenti che si completano in Aristotele e ha come risultato il fatto che la dimostrazione che per Hegel la dimensione etica consiste non soltanto nel riconoscimento che l'io il fare dell'io è modo accidente della sostanza etica il professor che qua sta discutendo l'eticità dei lineamenti e la fenomenologia dello spirito ma dall'altro lato dal punto di vista di Aristotele che intanto l'io può essere pensato nella sua azione come modo o affezione della sostanza in quanto proprio perché compenetrato dal mondo a sua volta lo compenetra e gli dà senso il concetto e il movimento etico da questo punto di vista questa è la tesi centrale della prima metà del libro contiene al proprio interno il momento erotico come quell'in sé quella natura quella notte che è l'assoluto che occorre attraverso questo movimento portare a soggettività cioè come la sostanza la sostanza propriamente etica il mondo umano che l'uomo deve riassumere nelle sue pratiche realizzare in un più alto eros che è appunto l'eros dell'io capace di compenetrare il mondo abbiamo conciuto da questo punto di vista un circolo quello tra eros ed etos che in un modo o nell'altro corrisponde a quello tra in sé e per sé problema questo circolo comunque non risulta veramente chiuso e qui il professore fa un passaggio fondamentale che è quello di proiettare sulla dinamica dell'eticità le quattro figure del giudizio della scienza e della logica mostrando come fondamentalmente il percorso che è stato fatto rimanga sospeso allo stesso problema a cui alla fine approdava la logica cioè è vero che dimostro che l'universale consiste soltanto nel suo particolarizzarsi e particolarizzandosi nel farsi individuale resta il problema che non riesco a spiegare la posizione dell'individuale a livello di giudizio all'interno di questo orizzonte che è il motivo per cui si deve saltare al sillogismo stesso problema il professore rileva all'interno della dimensione etica e lo fa con due figure fondamentalmente recuperando l'interpretazione hegeliana di Sofocle e mostrando sì come poi sarà il questo sarà il punto che porterà più avanti nelle ricerche successive come Hegel possa preferire Antigone Creonte a Edipo soltanto perché sta rimuovendo una potenza che in orrore la luce ha la base che è quell'in sé non riducibile a per sé ma più ancora facendo il riferimento e qui della cosa parlare del professor per la custa più avanti facendo il riferimento soprattutto a un passaggio fondamentale dell'Antigone dove Sofocle accomuna dove Antigone parlando e lamentando il fatto di essere rimasto senza gli idee accomuna il talamo alla tomba e il professore approfitta di questa cosa per dire non è che in realtà il vero grande problema non è il rapporto tra Eros ed Eros ma il fatto che nel rapporto Eros ed Etos è stato in un modo rimossa quel rapporto quella continuità fra Eros e Thanatos non è che c'è un altro Eros che è prima di quello che noi riusciamo a portare effettivamente nello spazio etico che sopravanza che sfora la ragione del passaggio a Kant sta fondamentalmente qui nell'84 in questa domanda il passaggio avviene però attraverso un nodo che mi interessa molto sottolineare perché sarà quello su cui poi dopo tornerò per passare a Kant cioè avviene a partire dal confronto di Hegel con Kant e dall'interpretazione della ricostruzione dell'interpretazione hegeliana della filosofia critica il professore sottolinea fondamentalmente come per Hegel la sintesi a priori kantiana l'orizzonte kantiano rimanga unilaterale perché sebbene lì sia già presente l'unità della scissione quella stessa unità di cui abbiamo parlato nella prima sezione l'unità della scissione lì è pensata in maniera ancora incosciente è un bevustlos il professor lo utilizza però qui una parola molto interessante trovo che ha noto cioè per Hegel l'unità kantiana è pensata ancora in maniera incongrua usa proprio questo aggettivo in maniera incongrua che è talmente tanto assunta da Hegel da portarlo a ritenere che in Kant non solo l'unità che vive nella e della scissione resta non conosciuta non pensata ma inoltre dell'unità originaria dell'unità che prima dell'ascissione non vè più memoria alcuna questo è il modo in cui il professore ricostruisce la posizione che viene rispetto a Kant detto questo passa però subito a rilevare che in realtà questa critica non coglie il punto e non coglie il punto a partire da una questione ben precisa in Kant cioè dal diverso rapporto in cui i due Hegel e Kant stanno pensando alla sensibilità il primo punto la prima questione sta lì nel fatto che Hegel pensa la sensibilità e la distinzione di intelletto e sensibilità come una distinzione in fondo corrispondente a quella tra uno e molti da trascinare internamente al concetto e da vedere come una fase un momento che è proprio del contenuto concettuale stesso mentre invece in Kant la sensibilità ha un altro statuto statuto che sfugge alla discussione Hegeliana innanzitutto perché quello che Hegel manca di rilevare è il fatto che non è vero che nell'orizzonte kantiano non vi sia unità anzi qui il professore fa una considerazione molto interessante soprattutto per gli studi kantiani e dentro gli studi kantiani rileva cioè che se è vero che l'analisi trascendentale dal punto di vista ideale individua diversi stadi di lettura dell'esperienza non è meno vero che questi stadi di lettura rimangono nel discorso kantiano veramente analitici che l'esperienza kantiana la sintesi kantiana è una è realmente concreta e qui il complesso edificio della critica della ragion pura viene ricostruito rilevando la fondamentale centralità dell'immaginazione il fatto che appunto scusate il gioco di parole di fatto realmente c'è soltanto l'immaginazione che costituisce l'orizzonte di visibilità rispetto al quale soggetto e oggetto trascendentale entrambi uguali a x costituiscono le ultime astrazioni del discorso kantiano analiticamente necessarie ma realmente già da sempre ricomprese all'interno dell'unità sintetica questo significa che all'interno dell'operare dell'immaginazione noto fra parentesi il legame evidente con Heidegger di questa interpretazione che è una delle cose che invece mi sembrano essere saltate nel libro di due anni fa all'interno di questa interpretazione comunque nel momento in cui l'immaginazione e i suoi schemi ci forniscono un orizzonte di visibilità comunque qualcosa cantinamente sfugge sfugge e noto il passaggio all'inizio del capitolo sulla distinzione fenomeni perché la ragione è come un viandante che nonostante sia sicura nella terra della verità è portata a prendere il mare sfugge più ancora e acquista il punto nodale in due diverse direzioni cioè dal basso rispetto alla materia della sensazione perché il professore parlando appunto del contenuto del concreto del pensiero cantiano rileva come la sensazione sia proprio ciò che si sottrae alla sensibilità la sinliskeit o l'orizzonte di senso non è capace di contenere al proprio interno cantinamente lo stesso momento sensibile quello che sfugge nella misura in cui io costituisco il senso è proprio la sensibilità e dall'altro come invece dall'alto a questo sfuggire della sensibilità dal basso corrisponda viceversa uno sfuggire della ragione a se stessa e qui il professore rileva innanzitutto l'estranità della ragione cantiana rispetto alla sintesi e in secondo luogo il fatto che il rapporto che la ragione cantiana con la dimensione propriamente materiale concreta si struttura secondo una modalità particolare il professore cita quel passaggio della fondazione della metafisica dei costumi dove Kant parla del dovere di conservare la vita e dice che non è di per sé morale il fatto che se nella vita di ogni giorno siamo tranquilli soddisfatti non non ci suicidiamo piuttosto è veramente morale quella azione che nel momento in cui sensibilmente per amor proprio io sarei spinto in ogni modo a uccidermi per dovere semplicemente per dovere mi fa restare in vita e qui il professore rileva una cosa cioè che la ragione kantiana l'ethos kantiano il pensiero sta proprio nel fatto di farsi tutore della vita contro la morte contro quell'impulso di morte che materialmente in un modo o nell'altro è pensato alla base della stessa dimensione erotica qui viene in questione il rapporto eros thanatos e il professore a questo punto può concludere rilevando non solo che il punto è che Kant aveva scrutato la vita con una acudezza e una limpidezza di sguardo sconosciuta a Hegel ma anche che ciò che divide Hegel da Kant mi scuserete per la lunga citazione però ne vale la pena ciò che divide Hegel da Kant è il diverso anzi opposto modo di intendere il legame dell'uomo con la terra e qui terra è il nome per tutto ciò che rientra nella natura che è prima che è al di qua della ragione per Hegel l'uomo animale razionale abita la terra ha nella natura la sua sede propria la sua dimora il suo costume il suo ethos si costituisce nel solco dell'inclinazione naturale la coscienza anche la coscienza riflessa che si separa dapprima dalla natura ritrova sé nella terra perché continua e porta a compimento ciò che nella natura è già in forma incoata ansisce eros ed etos in Hegel si identificano all'inizio e alla fine del processo che all'inizio eros è un etos in sé alla fine etos è un eros compiuto perfetto perché portato a perfezione la perfezione di eros è l'unità nella scissione l'unità che vive della scissione Hegel dialettizza e sintetizza gli opposti perché li vede sorgere da una medesima radice da un'unità originaria che insieme eros ed etos natura e coscienza sensibilità e ragione per Kant invece la scissione non consente riunificazioni dialettiche l'uomo kantiano non abita la terra ma si sottrae al mondo degli uomini la natura si sottrae al mondo degli uomini la materia sensibile alla sensibilità una natura più profonda della natura meccanica lega l'uomo a sé e insieme lo rende strane alla terra la ragione nasce come custode e tutrice della vita etos nasce in opposizione a eros separando ciò che in eros è congiunto unito la vita dalla morte ora da questo punto di vista edos ed eros se indicano la separazione da hegel per cercare di pensare questi due margini appunto individuano mi sembra due margini fondamentali che in kant sforerebbero il discorso hegeliano e cioè da un lato quello indicato dalla sensibilità dalla receptivitet dalla infinung e via discutendo e dall'altro invece proprio questa estranetà della ragione che intanto si costituisce a dimora in quanto sa perfettamente di dover essere di essere limitata da una morte con cui in un modo o nell'altro fa i conti ora brevemente questi due punti mi sembrano tenuti fermi e anzi ribaditi anche nel Kant Buch in fondo il professor Vidiello lì nel libro su Kant ribadisce più volte che è ciò che caratterizza Kant rispetto a tutta quanta la tradizione occidentale e la sua concezione della sensibilità e più ancora il libro si chiude con un capitolo dedicato al male radicale dove sebbene in una chiave molto diversa rispetto a quella che è presentata in Eros comunque il tema ripreso è proprio quello dell'oltranza della ragione rispetto all'esperienza è cambiato molto in realtà in primo luogo la concezione della legge e il diverso concetto di volontà perché sono abissalmente distanti l'uno dall'altro altri due Kant ci stanno nel giro di questi 40 anni resta il fatto che comunque i limiti sono quei due in realtà però è cambiata anche un'altra cosa è cambiato tutto quanto quello che c'è nel mezzo è cambiato cioè l'orizzonte dell'esperienza il modo in cui il professor Vidiello intende l'orizzonte della critica della ragione pura e in primo luogo il perno tra i due e qui abbandono la panoramica per provare a prendere il problema già dalla rapida ricostruzione che ho dato di etos ed eros ho rilevato come il centro lì cantianamente sia l'immaginazione come il reale virgolette nell'84 sia costituito da quel reale aperto all'immaginazione ho già detto che lì si vede l'influenza di Heidegger nel libro di due anni fa questa influenza è completamente rovesciata è rovesciata in primo luogo nella preferenza per la seconda edizione della critica della ragione pura anziché per la prima soprattutto rispetto alla questione io penso e intelletto l'immaginazione in un modo o nell'altro è portata dentro l'intelletto e dentro l'unità che l'intelletto significa in maniera molto più evidente ma c'è un passaggio in cui lei lo dice chiaro e tondo soprattutto però è cambiato appunto ciò che permette il lavoro dell'immaginazione alla base perché se in etos ed eros la cosa la direi così quando si si tratta del reale del concreto si tratta dell'unificazione che come unità sintetica appunto immediatamente è riconosciuta nell'immaginazione e quindi nella realtà determinata che poi si viene un modo o nell'altro ad analizzare e lo io penso indica appunto il presupposto analitico la pura identità dell'io così come dell'oggetto che rimane a margine dell'orizzonte è sorvoluto il fatto che già qui invertirei i termini nel cantbuch lo io penso è pensato mettendo in scusate sempre il gioco di parole mettendo l'accento in particolare sull'operatività dell'intelletto e quindi spostando l'unità sintetica alla base dell'identità analitica questo è molto più conforme al dettato cantino di quanto non fosse il discorso di Edo Sederos perché Kant stesso che dice che retondo che la sintesi fa da fondamento all'analisi e non viceversa la domanda è in che senso dobbiamo intendere però a questo punto quest'intelletto questo io penso che nella sua operatività starebbe alla base della produzione di quelle che a questo punto diventano le identità sensibili nei termini di Kant l'identità del concetto rosso piuttosto che l'identità del concetto giallo e via discutendo il professore per affrontare questo problema lo porta a convergere col problema del rapporto fra l'io trascendentale il soggetto trascendentale e il soggetto empirico e pensa e introduce a questo punto nel libro di due anni fa una distinzione che è quella in cui viene finalmente in discussione il rapporto tutto parti che ho rimandato dall'inizio quella cioè tra uno io penso totale che sarebbe appunto l'unità sintetica l'unità dell'operazione alla base della produzione dello spazio dell'esperienza e un io prospettico che è quella appunto dell'autocoscienza come identità dell'io uguale io che prospetticamente è situata all'interno di una determinata apertura di mondo mettiamo in questi termini ora per quale motivo fare questa traduzione da un lato ci sono per il professore delle ragioni testuali ci sono delle ragioni che riguardano proprio l'intera tenuta del pensiero kantiano e qui verrebbe in discussione il rapporto tra la critica della ragion pura e la dissertatio come se non l'avessi neppure accennato lo metto via dall'altro però mi sembra che il vero punto fondamentale o la vera ragione per questa distinzione sta in quella che è l'apertura del libro su Kant quando il professore con un significativo capovolgimento rispetto alla parola fondamentale di Egele dice che quello che si tratta di pensare insieme a Kant è la non unione di unione e non unione questa mi sembra in un modo o nell'altro la parola guida non solo del confronto del professore con Kant non solo di riflesso del confronto del professore con Egele quando cerca quell'altro Egele contro Egele mi sembra in generale la parola guida del professore e qui vorrei mettere un attimo in discussione la cosa la domanda che voglio porre è questa la dico nella maniera più diretta possibile davvero e non dico necessario ma già solo possibile intendere lo io penso kantiano in questi termini davvero l'io penso di Kant il rapporto fra ragione e intelletto in Kant indica la non unione di unione e non unione e questa domanda la pongo alla luce di due passaggi di Egele in Italia il primo entrambi stanno all'inizio del secondo capitolo della prima parte quello dedicato più direttamente a Egele successivo al capitolo su croce che serve appunto per inquadrare le varie interpretazioni successive il primo passaggio sta all'inizio quando lei rileva che il problema di Egele è quello della copula si tratta in Egele della mediazione e della mediazione pensata appunto come uno molteplice nel momento in cui ci rendiamo conto che all'interno del giudizio questa mediazione in un modo o nell'altro si ritrae tutto il problema egeliano diventa quello di portare questa copula a coscienza portarla al medio sillogismo e qui c'è il secondo passaggio che è quello in cui ricostruisce il sillogismo di sillogismi alla fine dell'enciclopedia dove viene fuori prende il passaggio una cosa che in realtà è molto simile a quello che stiamo cercando di pensare in Kant troppo simile forse a quello che stiamo cercando di pensare in Kant quando mettiamo l'accento sull'operatività della sintesi a priori perché lei stesso nota che ciò che è più importante di questi paragrafi finali dell'enciclopedia è la manifestazione piena della logica e del logos come attività la ragione si mostra si dice operando il suo manifestarsi nella forma dei due sillogismi uniti nel terzo che dicendosi si fa l'idea nel terzo sillogismo si rivela prassi nel momento in cui pensiamo lo io penso Kantiano e lo io penso Kantiano come alternativa da questo punto di vista alla struttura allo spirito hegeliano e lo pensiamo come prassi questa prassi riesce davvero a tirarsi fuori dall'operatività che invece abbiamo raggiunto qui in Hegel e questa cosa la dico con un occhio al primo capitolo del libro di Duche sul fiore nero dove Duche fa vedere che in realtà se la logica hegeliana funziona e io direi se la logica hegeliana funziona soprattutto qui alla fine come medio che fa vedere la natura dei medi degli altri è perché la logica hegeliana in generale si sottrae quello che io sto facendo vedere nell'ultimo sillogismo non è mettiamolo in questi termini la produzione effettiva del medio sto facendo vedere che il medio è tale soltanto nella sua sottrazione per cui già qui in un modo o nell'altro il non con ovviamente la clausola che questo far vedere per hegel è genetico e che erinnerung e genesi ricostruzione si corrispondono in hegel vuoi ripetere che in hegel si corrispondono si corrispondono che cosa? erinnerung e costruzione e genesi ricordiamoci nel momento in cui dico questa cosa la domanda la capovolgo la capovolgo in in un'altra direzione e cioè se il punto in generale in realtà non fosse cantianamente quello di dover pensare una unione di unione non unione ma semplicemente proprio nella sua semplicità così come è detta la verbindung la domanda la posso dire anche in un altro termine in un altro modo il giudizio dopo il sillogismo che vogliamo pensare siamo così sicuri che il giudizio di Kant o questo giudizio dopo il sillogismo è ancora il giudizio hegeliano dopo il sillogismo perché qui mi sembra che in realtà in Kant ci sia un'altra veramente completamente altra struttura di pensiero traduco l'implicito del discorso siamo sicuri che il Kant del professor Vitiello non sia ancora molto hegeliano nel momento in cui dico la domanda in questi termini cerco di spiegare in che senso il discorso in Kant proprio su quello io penso potrebbe puntare a qualcosa di diverso e lo faccio rispetto al discorso dell'identità sintetica e dell'unità sì sì me ne servono meno rispetto al discorso dell'unità sintetica e dell'identità analitica e rilevando che in fondo lo io penso Kantiano funziona nell'accompagnare e funziona nell'accompagnare direi così quello che di volta e volta è dato la sintesi Kantiana è totalmente sospesa alla datità che è la sua stessa datità in un modo o nell'altro ma che rispetto allo io penso mi sembra non avere nessunissimo tipo di totalità sottintesa nemmeno la totalità della prassi la prassi non è totale è semplicemente operante la sintesi semplicemente lavora e questo lavoro non è che dobbiamo pensarlo non rifiutando la sintesi Kantiana come incongruenza recupero il termine ma proprio accettando che la sintesi Kantiana la verbindung Kantiana intanto sintetizza in quanto come sintesi è incongruente cioè togliendo in generale la moltiplicazione dei termini togliendo anche il non l'unt e tutto quanto quello che sta fra verbindung e nicht verbindung e pensando appunto semplicemente alla verbindung in questa direzione Kant mi sembra andare e con questa citazione chiudo in quello che è uno dei testi in realtà meno considerati del discorso Kantiano e cioè nella seconda nota alla prima definizione della foronomia nei primi principi metafisici della scienza della natura il luogo non è un caso in questione qui da parte di Kant è la possibilità di disegnare il movimento cioè il fatto che io appunto la sintesi non mi limito semplicemente a operarla ma nell'operarla come unità di sintesi la traduco in un'identità questa composizione Kant dice è possibile soltanto perché nel momento in cui traccio la linea il tirar di linea della critica della ragion pura non si sta muovendo soltanto mettiamo in questi termini la punta della penna ma la punta della penna corrisponde dal punto di vista della costruzione dello spazio un quanto meno possibile movimento in direzione contraria del foglio che in realtà io do per assodato che non ci sia perché assumo uno dei due come immobile appunto il foglio su che cosa si basa l'assunzione del fatto che il foglio come spazio relativo è immobile sulla base del fatto che assuma al di fuori del foglio uno spazio assoluto che dovrebbe essere appunto la totalità dello spazio ci troviamo da questo punto di vista per disegnare in un'identità il movimento a dover pensare l'identità dell'operazione come identità tanto dell'operare quanto dell'oggetto prodotto e allo stesso tempo al di fuori a proiettare di nuovo il tutto per cui qui sembra essere di nuovo richiamata in causa la dialettica fra tutte parti fra una totalità che sarebbe quella dello spazio assoluto e le parti che si sta o la prospettiva che si sta disegnando all'interno non fosse che Kant commenta così e qui c'è un'unica frasetta che vorrei mettere sul tavolo cito l'intero capoverso ma la frasetta la sottolineerò alla fine lo spazio perciò ogni movimento che si oggetta dell'esperienza è soltanto relativo lo spazio in cui viene percepito è uno spazio relativo che a sua volta si muove e forse in direzione opposta in uno spazio più esteso per cui anche la materia che si muove rispetto al primo rispetto a questo secondo spazio può essere detta immobile per situare il foglio traduco come immobile nello spazio nel momento in cui tiro la linea disegnandola considero la punta della penna come immobile la punta della penna come mobile il foglio come immobile ma come immobile il riferimento al tavolo e possiamo ampliare alla stanza e di qui a salire questo secondo spazio può essere detto immobile queste modificazioni del concetto del movimento procedono così all'infinito in corrispondenza con il cambiamento dello spazio relativo ammettere come dato per sé uno spazio assoluto cioè uno spazio che in quanto non è materiale non può essere oggetto d'esperienza significa ammettere qualcosa che non si può percepire né in sé né nelle sue conseguenze e porlo a fondamento della possibilità dell'esperienza non posso da questo punto di vista che considerare lo spazio assoluto come una semplice idea non si darà mai uno spazio assoluto perché qualsiasi spazio nel quale mi muoverò sarà sempre uno spazio relativo conclusione porlo a fondamento della possibilità dell'esperienza la quale si deve invece sempre svolgere senza di esso e qui è il punto non ci sta il tutto la sintesi kantiana se considera il tutto lo considera come idea come un qualcosa di irregolativo all'interno mentre l'esperienza la produzione la sintesi si deve si deve un attimo che cerco il verbo è musen si deve sempre svolgere senza di esso non è che allora dobbiamo pensare semplicemente le parti senza tutto la parte nel suo essere parte ma in totale al di fuori non è che allora forse quella che smette di essere in grado di dire il movimento della sintesi è proprio la dialettica tutto parti che dobbiamo abbandonarle e pensare piuttosto un movimento che nella misura in cui accade si svolge senza totalità nel momento in cui accade proprio come sintesi composizione di cosa di sé con sé si riassume ma in cosa nella sua totale sospensione al proprio muoversi per cui il tutto l'intero orizzonte del totale viene completamente a essere messo fuori quadro rimane cosa semmai la sospensione dell'operare ma questa sospensione dell'operare la posso davvero continuare a definire in termini egeliani come l'operazione della logica che sta alla fine dell'enciclopedia o nel momento in cui la vado a intendere in termini kantiani come cambia il concetto di Handlung e con queste domande mi taccio grazie Antonio per la panoramica e per le questioni che immagino che il professore vorrà dialogare no no dopo se vuole rispondi se vuole rispondi ma il punto comunque non è nuovo ma forse la presentazione è nuova ma è sempre no no anticipo qualche cosa sono grato che sono ricordati anche due testi su su Kant e su Egel che sono particolarmente antichi e che sono abbastanza diversi dal libro ultimo su Kant che mi è venuto fare di scrivere anche con molta difficoltà ma qui ci sono innanzitutto delle cose da chiarire io ho tenuto sempre molto presente l'affermazione di Kant con cui inizia la dissertazione cioè che tra totalità e finito c'è una differenza radicale che la totalità è sempre richiamata dal finito ma la totalità non si considera in mano la totalità non è un fatto la totalità non è una cosa la totalità non è la totalità è un metodo di pensare un metodo di pensare qualche cosa qualche cosa che non si raggiunge mai guarda un poco allora cioè vogliamo pensare che la differenza tra Kant ed Hegel è una differenza radicale radicale significa che riguarda proprio il senso della ragione in Kant la ragione non è infinita perché non ha senso questa parola la ragione anzi è quello che mette insieme qualcosa che non si può pensare perché mi sembra che nella tua riflessione kantiana come dire in non non eccetera non c'entra per niente così è dimenticato mentre invece quello mi sembra che sia un elemento fondamentale cioè noi ci insomma il tema la differenza tra Kant ed Hegel è esattamente questo per Kant la ragione che è il fondamento della dimostrazione eccetera il fondamento del del mondo che noi che noi costruiamo e poi su questo ci tengo molto dunque che significa costruire questo dunque costruire non significa che c'è qualche cosa altro dal pensiero il pensiero è quella cosa che noi costruiamo il pensiero è il mondo ma questo pensiero non è una ragione assoluta è qualche cosa di estremamente limitato dove l'infinito è solo la maniera per cui noi finiti possiamo pensare possiamo pensare il finito il finito che non avesse qualche cosa sempre al di là non sarebbe finito e se non non sarebbe finito quindi evidentemente non è pensabile noi pensiamo soltanto il finito dunque tutte le cose questo come dire deve comprendere un modo completamente nuovo di leggere Kant Kant noi leggiamoci prima la sensazione perché ci siamo sempre fermati alla come dire a quell'istinto di educatore quell'istinto di 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 Kant che vuole spiegare le cose che noi siamo i ragazzini e Kant ci spiega guardate che ci sta prima l'immaginazione poi dopo l'immaginazione ci sta la sensazione poi l'immaginazione poi il pensare però quando arriviamo nella critica della ragione qui senza nessuna speculazione che a un certo momento Kant dice sì ma io sento il prurito sulla mano perché io sento me stesso questo è l'io penso l'io penso universale che o sento il dolore sulla mano o sento il prurito oppure sento come dire una sensazione sessuale eccetera eccetera questo è sempre sono io che penso quindi lasciamo stare il fatto come dire il carattere proprio di 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 professore di Kant che deve spiegare tutto e allora noi per pensare la nave che viene come dire che viene ribaltata dall'onda più forte eccetera dobbiamo prima avere la visione poi avere l'altra visione poi dire quali sono gli elementi eccetera ma la cosa non accade così noi non quando poi dicere tutto tutto quello anche quando mi gratto sulla mano c'è un io penso che rende me grattante la mano e non me grattante il tavolo ecco questa è la cosa dunque l'io penso esattamente questo è quella forma in cui sono sempre ridotte tutte le nostre sensazioni ma le nostre sensazioni le nostre immaginazioni eccetera eccetera non ci sta un pensiero insomma il problema è che la deduzione trascendentale deve essere capita non nel processo di salita ma nel processo di discesa non è che ci sta una sensazione la sensazione del dolore alla mano poi ci sta la sensazione che viene portata a pensiero ah questo è il dolore poi che viene pensato ah questo è l'io penso io penso che è il dolore no io sento immediatamente cioè non ci sta un non ci sta una senza questo lo dice Kant ben inteso non ci sta una sensazione che non sia un io sento allora l'io puro l'io das tenete presente anche il modo che scrive non ich denke ma das ich denke das ich denke traducete l'io penso l'io penso ma io sono io non sono l'io l'io penso che è universale ma che diciamo non vogliamo capire questo insomma a me sembra Kant deve essere completamente ripensato questa è stata la mia fatica ovviamente con tutti i limiti di cui mi rendo conto di fare perché molte volte ci sono delle cose da fare e poi dobbiamo tenere ancora presente una cosa che in Hegel rimane in Hegel che poi si dice che l'Hegel è quello che considera si dice si dice l'ho detto io ho fatto come dire ho portato la bandiera per la vita intera dunque che Hegel ha pensato il pensiero come attività eccetera eccetera ma non è vero non è vero il primo è stato Kant se vogliamo dire e forse forse dobbiamo risalire ad un autore italiano che guarda caso si chiama Vico il verum et factum e possiamo fare tanti altri esempi anche di grandi poeti relativamente a questo insomma noi abbiamo e questo ritengo ma non mi voglio fermare su queste cose perché ci sto lavorando da tempo e non credo di essere arrivato al punto al nocciolo reale noi siamo costretti a pensare in una maniera che non è proprio per pensare e cioè noi siamo costretti insomma quello che era il grande trionfo per Severino eccetera l'essere e così noi siamo legati a questa parola essere le cose che è la cosa che è eccetera eccetera e come dire la costruisce così e allora qui è la ragione del pensare come definire la pensare ma questo qui poi ci sono tanti altri elementi qui mi come dire mi sforzo di pensare delle cose sperando che un più autorevole conoscitore di Aristotele di me non non mi crucifica dopo dunque è qui come dire è proprio la posizione la posizione dell'essere che è stata garantita come dire garantita da Aristotele come il principio di non contraddizione eccetera eccetera perciò io insisto che la un verbindung questo è il da pensare e questo è il da pensare che ci permette di fare il passo tra la filosofia che ferma alla teoretica alla logica eccetera alla filosofia e questo mi sembra che sia questo mi sembra che sia il grande insegnamento io da qui ho iniziato adesso scoprendo tutte le carte il grande insegnamento il grande insegnamento di Kant guardate che se non comprendiamo la deduzione trascendentale che cosa significa e che cosa significa la prima e la seconda deduzione trascendentale non capiamo certe volte si dice eh ma ci sono delle opposizioni che Kant non risolve eccetera eccetera è proprio perché non le risolve che mostra il limite della ragione e questo è il punto il limite della ragione che è superato grandemente proprio dalla dalla critica della ragione pratica non la critica della ragione teoretica la critica della ragione teoretica si apre alla critica della ragione pratica guardate mi riscaldo così perché perché è stato il lavoro di dieci anni un poco di più di per cui come dire ad un certo momento davanti a determinate proposizioni eccetera eccetera sono mi sono fermato e così non è è stato per me un lume forte vedere che la deduzione trascendentale non è fatta io prima sento poi immagino e poi penso ah sì io penso ed è il pensiero che si fa immagine ed è l'immagine che si fa cosa noi nel conoscere il mondo lo stiamo costruendo che cosa è questa stanza se non quello che noi vediamo ecco questa è la ragione come dire mi sono mi sono convinto di dover fare come dire un passo indietro o un passo in avanti come passo indietro ma insomma da questo punto di vista posso trovare posso trovare una ragione proprio in Egel che da cui come dire mi sono allontanato che è l'andare innanzi e retrocedere ed è retrocedere al fondamento e teniamo presente che Egel non è poi quel mostro di ragione eccetera eccetera perché ci sono nella fenomenologia dello spirito tesi particolarmente importanti non è che tutto si riduce a ragione vogliamo tenere presente la lichte schoie macht la potenza che ha in orrore la luce vogliamo tenere presente dunque teniamo presente quella che cosa forse conviene che sulla lichte schoie macht si ci fermiamo dopo per carità per carità dunque guardate sono soddisfatto se per ogni mia parola io trovo un'obiezione perché se trovo un'obiezione allora dico ho pensato a qualche cosa di serio cioè serio per me significa che qualcuno lo prende in considerazione tutte le volte ci sono qui molti miei allievi che hanno fatto come dire una carriera ben più come dire brillante di me c'è della mia e così via di seguito di cui ringrazio sempre vi ho anche invidiato di ah avesse avuto questa intelligenza all'età loro ecco quindi per me come dire fare filosofia significa entrare in un linguaggio entrare in una corrispondenza io non sono non sono vero per quello che dico ma sono vero per quello che gli altri dicono di me questo questo è la cosa la verità non è una cosa così che io possa ci sta troppo tutto perciò sono anni che vado pensando che la tragedia la tragedia della del pensiero occidentale e quando parlo di tragedia parlo anche di cose politicamente feroci è stato proprio l'asservimento alla logica dell'essere l'essere è questo la necessità parte la chi può mostrare la necessità è indimostrabile ricordo un caro amico su cui ho da poco terminato di scrivere che davanti all'obiezione ma così tu ti contraddici e questo lo diceva un filosofo di tutto rispetto con cui ho discusso per una vita in una posizione completamente lontana dalla sua quando questo mio caro amico venne accusato beh ma così tu ti contraddici la risposta è sì beh sì mi contraddico e allora perché questo questa esaltazione del principio di non contraddizione eccetera eccetera dove sopra il principio di non contraddizione quando Aristotele dice mi permetto con con grande timore e stendici qui con uno studioso di Aristotele che conosce cose che io non mi sogno di conoscere eccetera eccetera dico la dimostrazione di Aristotele del principio di non contraddizione se il principio di di non contraddizione viene detto no non è vero il principio di contraddizione è vero il principio di non contraddizione il principio della contraddizione seconda tesi ricordo se ricordo bene seconda tesi dell'esame che fece per l'abilitazione all'insegnamento universitario Egel Egel che è la tesi che dice non identità ma la non identità è la verità ecco teniamolo presente così allora questa esaltazione del principio di identità eccetera da che cosa è dovuto a che cosa corrisponde non c'è stato come dire una esaltazione del verbo essere per cui ecco questo qui questo qui credo che stiamo nel punto di mettere in discussione totalmente proprio Parmenide se vogliamo dire non ritornare a Parmenide ma dimenticare Parmenide ecco dimenticare Parmenide vorrei fare anche un'altra considerazione non è l'affermazione beh in Aristotele questo è ancora una volta oso entrare in presenza di un autore che conosce Aristotele infinitamente meglio di me ma insomma non è proprio questa considerazione dell'essere e come il principio di identità come il fondamento di tutto non è questo come dire l'elemento che ha portato il nostro vivere il nostro quello di oggi particolarmente e quello di oggi significa anche significa anche il terrorismo eccetera eccetera anzi particolarmente questo questo che mette in dubbio la possibilità che il mondo abbia il mondo dell'uomo abbia una continuazione non è questo il principio del potere del potere perché Aristotele dice del principio che la metafisica è qual è la metafisica è come il generale dell'esercito deve essere quella che comanda tutto il comando perché noi qual è la forza perché rispettiamo il principio di non contraddizione perché è il potere ecco quando il sapere si è reso servo del potere allora la filosofia è terminata e forse è terminata anche la vita dell'uomo questa è la risposta che do insomma della cosa stiamo davanti a determinati problemi che non si esauriscono che cosa se devo rispondere ad una domanda ma che cosa ti ha portato a questo guardate che è stata è stata una lotta che è durata almeno dieci anni almeno c'è stato un primo canto che risale agli anni ottanta del secolo scorso insomma la cosa è maturata nel decennio 2010 è è stata una fatica immensa per me così ho dovuto rinunziare a tutto quello che avevo fatto prima perciò il riferimento non è una critica ma anzi un ringraziamento vuole dire che è stato ricordato questo primo libricino tra Kant e Hegel dove già allora prendevo posizione con Kant che poi ho sempre cambiato eccetera eccetera anche condizionato dall'influenza di Leo Lugarini ricordo quando la prima volta parlai con Leo Lugarini di Hegel e io credevo di conoscere Hegel e anche la fenomenologia dello spirito bene ricordo che dopo che la discussione eccetera eccetera Leo mi disse esattamente questo Enzo ricordati una cosa fondamentale che la fenomenologia dello spirito va letta due volte uno dall'inizio alla fine due dalla fine all'inizio se non fai questo determinato si legge nell'introduzione proprio questo a parte di quella considerazione di Hegel che scritta nella scienza della logica che l'andare innanzi è in verità un retrocedere al fondamento al fondamento nella fenomenologia dello spirito qual è questo fondamento e se fosse proprio la bene direi con questo di passare direttamente al tema io ringrazio moltissimo per queste considerazioni sono molto contento di averle già solo provocate e poi non mi tengo la sferzata io non ho parlato però di finito infinito ho parlato di tutto e parti e di uno e molteplice e se il punto fosse proprio quello di scindere finito e infinito da tutto parti e uno e molteplice se la sintesi cantiana permettesse quello pongo la domanda e scompaio lasciando la parola al professor Valagusta certo adesso devo ricerire un altro muro perché anche lui mi picchiera e fa bene ringrazio il professor Valagusta per aver accettato l'invito docente di estetica e forme del fare presso l'università vita salute San Raffaele di Milano parlerà appunto della potenza che non ruove la luce che è un tema che è stato chiamato in causa e quindi lascio subito la parola al professore grazie io comincio naturalmente ringraziando l'istituto per l'invito e tutti i vari organizzatori sono state spese parole molto belle sul debito che tutti noi abbiamo e io sono naturalmente mi sento parte nel riconoscere questo debito che tutti noi abbiamo però credo che questo debito che abbiamo contratto possa essere espresso nella maniera migliore proprio cercando di discutere non ci siamo messi d'accordo io partirei proprio da in realtà poche pagine all'interno di Hegel in Italia dove la tesi del professor Vitiello è molto precisa cioè la famosa figura del contraccolpo è senza giri di parole è questa potenza che ha in orrore la luce cioè non è una cosa fine che richiama ma è proprio questo aspetto sarà un percorso diciamo così che io farò in quattro tappe perché sia il contraccolpo sia la potenza che ha in orrore la luce hanno la caratteristica di trovarsi sia nella fenomenologia sia nella scienza della logica e da qui quindi abbiamo sostanzialmente due coppie che devono essere analizzate lo faremo brevemente ne sono starò nei minuti concessi però appunto sono proprio quattro le tappe e non si può non partire da quella famosa frase a cui in realtà implicitamente si accennava da parte del professore si tratta di intendere ed esprimere il vero non io direi mi permetterei di aggiungere un non solo come sostanza ma altrettanto bene come soggetto su questo ebenzosea su questo altrettanto bene sulla difficoltà naturalmente di rendere questo termine tedesco penso che il professor Vitella abbia riflettuto e abbia costretto noi a riflettere più di chiunque altro da qui anche l'esigenza di non lasciare solo il non come sostanza ma appunto dire non solo ecco come sostanza ma altrettanto bene come soggetto perché il primo punto in cui emerge il contraccolpo riguarda proprio la lettura della proposizione speculativa nella fenomenologia dello spirito dice Hegel sono passi anche troppo noti ma vanno richiamati il saldo terreno del soggetto quiescente vacilla qui naturalmente bisogna mettersi un attimo d'accordo con i termini questo soggetto quiescente che è il soggetto della frase in realtà è esattamente la sostanza cioè qui c'è un problema naturalmente terminologico nel senso che quando Hegel dice non solo come sostanza ma altrettanto bene come soggetto sta dicendo il saldo terreno del soggetto quiescente il soggetto quiescente cioè il soggetto della proposizione qui è la sostanza è la morta sostanza cioè quando io dico Dio è essere Dio all'inizio è morta sostanza è il soggetto della frase ma in quanto immediatamente dato ciò che è dato in quanto immediato noi lo consideriamo noto e proprio perché lo consideriamo noto non è conosciuto dice Hegel quindi questo Dio iniziale è sostanzialmente qualcosa di morto di quiescente ma il saldo terreno per cui noi diciamo Dio avete presente Dio cioè ce l'abbiamo presente tutti sappiamo tutti cos'è ecco questo saldo terreno vacilla dice Hegel perché in realtà il vero soggetto che abbiamo di fronte non è il soggetto della frase che è la sostanza potremmo dire così è la morte sostanza è il soggetto quiescente il vero soggetto è il movimento del pensiero che fa questa operazione tiene insieme i predicati che di volta in volta predichiamo del soggetto e tenendoli insieme costruisce quelli che non sono più a questo punto i predicati semplicemente ma diventano l'essenza essenza è la sostanza la vera essenza di quella morta sostanza cioè quando tu mi dici Dio io non so che cos'è Dio se tu invece mi dici che Dio è essere che Dio è onnipotente che Dio è onnisciente io comincio a tenere insieme questi predicati ed è la riflessione cioè è il movimento ponente del pensiero ad essere la vera essenza della cosa cioè quello che Hegel capisce è che non c'è un'essenza nella cosa a prescindere dal movimento del pensiero che la costruisce la vera essenza è quindi la riflessione non un po' cioè il movimento di pensiero è il costituente dell'autenticità del soggetto a questo punto è lui il vero soggetto cioè a questo punto per usare l'espressione di Hegel attraverso i vari predicati dispersi questi vengono raccolti sotto il sé e a questo punto il sé cioè il pensare è il soggetto cioè dice sono io ad essere il vero soggetto cioè il soggetto non è nemmeno più la sostanza non è nemmeno più Dio la verità di Dio è il movimento di pensiero che si crea e che identifica Dio con l'essere perché se fosse soltanto la raccolta dei predicati non ci muoveremmo in realtà la vera proposizione speculativa implica che è il movimento di raccolta del pensiero ad essere la sostanza della cosa cioè il vero soggetto della cosa proprio in questo movimento il pensare subisce un contraccolpo cioè uno potrebbe dire ecco qua l'idealismo l'idealismo è il fatto che il pensare è quella cosa che in realtà quel movimento che ricostruisce la sostanza e quindi che cosa è il vero soggetto il pensare ma neanche per niente dice Hegel perché in realtà il pensare proprio adesso che è libero cioè proprio adesso che dice io pensare ho ricostruito la vera essenza della cosa perché ho raccolto tutti i vari predicati e questa raccolta è la sostanza vera cioè quella conosciuta ormai non soltanto nota che Dio sapete cos'è Dio no in realtà no vi devo dire tutto l'insieme di predicati cioè costruire l'essenza beh a questo punto il pensare potrebbe dire ho conquistato il campo no Dio l'ho costruito io è la posizione dell'insieme dei predicati che ho raccolto no perché proprio qui dice Hegel il pensare subisce un contraccolpo perché quella sostanzialità che il pensare ha superato è ora una pesantezza che impedisce al pensare di errare liberamente cioè non è che il pensare ha conquistato il campo e dice adesso sono io il vero soggetto e erro liberamente perché non ho più niente di fronte a me così no perché sono l'assoluto no il soggetto della frase qui cioè la sostanza va perduta dice Hegel perché è tolta nel predicato e qui tolto ha un significato tecnico cioè qualcosa è tolto quando è presentato in unità con il suo opposto il soggetto è tolto nel predicato vuol dire non abbiamo più la sostanza ma abbiamo il movimento che raccoglie tutti i predicati che è la sostanza stessa cioè è presentato insieme alla sostanza e in questo senso il soggetto cioè il soggetto della frase è tolto cioè è in unità con i suoi predicati non abbiamo più nessuna differenza potremmo dire così tra Dio e l'essere l'onipotente quello che volete che il pensiero si sforza di tenere insieme ma appunto il pensare che vuole in qualche modo essere il puro movimento ponente sente la mancanza della sostanzialità cioè proprio nel momento in cui l'ha superata cioè l'ha tolta sente la mancanza della sostanzialità cioè sente questa pesantezza e viene risospinto in essa dice Hegel cioè in che cosa cioè in un contenuto perché cos'è quell'essenza che io pensare ho costruito è proprio quella nel momento in cui l'ho raccolta nel momento in cui la presento in forma diciamo così di predicati che sono di volta in volta raccolti dal pensare beh quello è un contenuto è sostanziale dice Hegel mica è il pensare puro è l'ordine che il pensare ha costituito vogliamo dirlo con un'espressione appunto tipica di Hegel del periodo ienese in cui prepara la fenomenologia è chiaro che il pensare continuamente ripete un certo ordine tra vari significati e così costruisce le sue proposizioni ma attenzione quello non è il pensare dice Hegel il pensare è tenere fermo l'ordine questo vuol dire che l'ordine che il pensare ha costruito nel suo movimento ponente è esattamente il vincolo che il pensare trova di fronte a se stesso cioè siccome io pensare ho ricostruito un certo ordine io devo tenere fermo quell'ordine se io adesso vi dicessi pensare la sostanza non come soggetto no come vero aspettate cioè questo non è il pensare no cioè io se voglio parlare di Hegel devo proprio dire intendere ed esprimere il vero non solo come sostanza cioè io sto tenendo fermo un ordine questo è il pensare ma è chiaro che il pensare nel fare questo è risospinto in una forma sostanziale cioè il pensare non può fare quello che vuole proprio perché il fondamento ponente ha costruito un ordine che adesso lui è vincolato a rispettare questo è il contraccolpo a mio avviso ma insomma da quello che si può intendere anche dai testi credo del professor Vitiello ora questo termine Gegenstoss no contraccolpo torna in una delle pagine no meravigliose della logica dell'essenza all'interno della scienza della logica dove questo contraccolpo viene presentato come il nucleo del movimento riflessivo cioè della della riflessione in quanto ponente no cioè dice Hegel il presupposto si svela pura parvenza cioè quando qualcosa di noto viene superato dal pensiero quando il pensiero mostra che quella cosa quel noto in realtà non è noto per nulla è pura parvenza c'è una bella espressione di spaventa qui che diceva il dato proprio perché è dato anche un dato storico so Cesare è morto a Lady di Marzo del 44 cosa vuoi dire di spaventa eh no dice spaventa il fatto vero dà da pensare cioè come mai quello lì che era sostanzialmente il dictator a Roma eccetera viene ucciso cioè quello è già un problema mette in moto il pensiero se tu mi dici è morta Lady di Marzo del 44 questo qui non lo puoi smentire ma non è questione di smentirlo è che il pensiero vuole sapere perché è in senso che questa frase è pura parvenza il pensiero la nega dice no mi devi dire perché è stato ucciso e quindi si mette in moto quindi il movimento ponente è qualcosa la riflessione è qualcosa che supera il presupposto cioè considera questo qualsiasi dato gli possa dare anche un dato storico e dice no questa cosa qui è pura parvenza cioè vuol dire non sta in piedi da sola vogliamo dirla con le parole di Hegel è un negativo nega se stesso non sta in piedi e quindi io pensare lo nego appunto cioè la riflessione è una dimensione negante rispetto al dato ma dice Hegel attenzione non è che io sto dicendo che c'è un presupposto che viene negato cioè che si mostra come qualcosa di negativo e poi la riflessione negante è un altro negativo come se fossero due negativi diversi certo che questo è un movimento da nulla a nulla ma non sono due nulla diversi no? dice Hegel non c'è un altro es gibt kein anderes non c'è un altro più ci sforziamo di pensare questa cosa questi due nulla come lo stesso nulla più siamo vicini a Hegel perché Hegel dice guardate che il fatto che questa cosa venga negata o il fatto che questa cosa venga pensata è la stessa cosa il pensare non è il negativo e basta rispetto a un dato che se ne sta lì il fatto che il dato sia negato è il pensare è l'origine del pensare e d'altra parte l'origine del pensare è il fatto che il dato non sta cioè il pensare si mette in moto solo quando si accorge che il dato è parvenza è parvenza è puro non stare ma dove se ne va sto movimento ponente cioè ha abbandonato il presupposto perché l'ha negato quindi uno si immagina se è partito starà andando da qualche parte dove va a parare questo movimento ponente cioè questo movimento della riflessione che si è staccato dal dato che dice no questo dato non mi basta voglio altro ma non c'è un altro quindi dove va a parare di Segel torna non può fare altro che tornare al fondamento si diceva prima non può fare altro che tornare al presupposto la riflessione cito è il presupporre ciò a cui essa fa ritorno frase secondo me è centrale il sorpassare l'immediato è l'imbattersi in esso cioè è soltanto quando l'hai sorpassato che ti imbatti davvero in esso cioè vuol dire tu hai capito davvero non so Cesare è morto a Lady di Marzo del 44 solo nel momento in cui l'hai già sorpassato e quindi ti puoi imbattere in esso perché prima quando lo consideri come un puro dato non c'è non esiste quella cosa proprio perché l'hai considerata come nota non hai messo in moto il tuo pensiero e quindi è lì sta morta soltanto quando ci ritorni col pensare cioè hai fatto le tue ricerche ti sei impratichito di cosa sia la storia romana allora a quel punto non è che tu dici adesso il pensare che ha conosciuto la storia romana nega astrattamente il fatto che no Cesare è morto all'idea del 44 no ci ritorni ma ci ritorni alla luce del pensare che ha fondato cioè del giro che ha fondato questa che prima era la morta esistenza cioè scusate la morta sostanza se noi diciamo che nel movimento l'immediatezza è tolta di nuovo tolta in senso tecnico cioè vuol dire che l'immediatezza è presentata in unità con la mediazione e allora è in unità col suo opposto ciò significa che il movimento stesso se è in unità con l'immediatezza dove volete che torni se non esattamente all'immediato è il ritorno all'immediatezza ma questo è il contraccolpo cioè non è che il pensare se ne va da un'altra parte il pensare torna da dove era partito non è che io dico adesso nego che Cesare sia morto all'idea del 44 ben inteso potrebbe anche essere possibile io faccio una serie di ricerche e scopro che magari non era vero questa possibilità me la dà solo il pensare ma tendenzialmente diciamo torni esattamente al presupposto cioè torni al punto in cui hai cominciato se vogliamo dirla con Hegel l'eguaglianza con sé della riflessione è quello che gli dà il sussistere cioè il sussistere che cos'è? è il movimento stesso che però fa ritorno all'immediato non è che se ne vada un'altra parte rispetto all'immediato questo è il contraccolpo cioè la riflessione non vaga la riflessione tiene fermo l'ordine la riflessione abbandona l'immediato per tornare all'immediato stesso e quante volte noi leggiamo in Hegel al termine della 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 logica dell'essenza questo è clamoroso no? cioè la mediatezza è tolta per no? è tolta per il ricomparire dell'immediatezza e al termine della logica soggettiva non è forse la stessa cosa non c'è più il logo ma il logo diventa natura cioè di nuovo immediatezza è un continuo no? ripetere questa formula line Hegel che cos'è questa pesantezza? cioè che cos'è questa pesantezza che a un certo punto costringe il pensare a ritornare? cioè a ritornare potremmo dire così sui suoi passi ma oltre no? cioè certo che oltre perché adesso quella cosa è posta come presupposto ma in realtà anche sui suoi passi appunto non è un caso no? e ben Zosea cioè non era solo un presupposto ma è anche un posto cioè qualcosa che io ho posto nella riflessione ora la tesi è che questa pesantezza è la potenza che è in orrore alla luce questo è quello che si tratta di verificare e quindi abbiamo fatto le prime due parti il contraccolpo nella fenomenologia e nella scienza della logica ora ci dedichiamo a questa potenza che è in orrore alla luce usando lo stesso lo stesso ordine cioè prima nella fenomenologia e poi nella scienza della logica spero che si capisca anche perché secondo me questo elemento cioè questa identificazione ha molto a che fare con diciamo proprio il titolo cioè Hegel in Italia cioè c'è un modo italiano diciamo così di pensare Hegel allora nella fenomenologia torniamo conto che questo movimento del pensare viene frenato subisce questa pesantezza per cui ritorna un contenuto in qualche modo questo è il movimento che abbiamo messo lì cioè c'è un'esigenza del pensare di darsi una forma sostanziale cioè un ordine che stabilisce lui ma una volta che l'ha stabilito un po' dire faccio come mi pare no sono vincolato al sostanziale cioè a quell'ordine che ho posto e Hegel dice come si comporta il reale nei confronti del pensare il reale mica manifesta tutto al sé il reale lascia oscura una parte e in particolare non rivela al figlio che quel vecchio fastidioso con cui lui sta litigando al crocicchio e che adesso uccide è il padre Edipo tutto quello che sa è che c'è un vecchio che gli rompe le scatole e a questo punto lo uccide mica sa che è il padre non rivela in quella bellissima donna con cui questo uomo andrà a letto e avrà dei figli con lei che questa bellissima donna è la madre non glielo dice mica la realtà no questa è appunto la potenza che ha in orrore la luce e che una volta che il fatto è commesso no coglie dice che la coscienza è infragrante cioè fa sì che la coscienza quando si rende conto di quello che ha fatto è ormai l'hai fatto non è che se ti rendi conto questa è proprio il nostro sentimento piccolo borghese che sta lì a chiedersi ma è tipo era veramente colpevo perché se era colpevo se non sapeva come facciamo a dirgli colpevo ma mettetevi un po' nei suoi panni ma perché se io scopro che ho ucciso mio padre e se mi dico però non l'ho mica fatto apposta cosa cambia di preciso cioè è solo nella nostra assurda coscienza giuridica che diciamo beh effettivamente però non lo sapeva ho capito ma anche ammesso che sono stato con mia madre ha letto però non lo sapevo perché questo è importante perché questa potenza che ha in orrore la luce torna nella scienza della logica guarda caso tra l'altro torna nella scienza della logica quando Hegel sta affrontando la logica dell'essenza da cui siamo partiti con il contraccolpo ma non nella sua fase iniziale nella sua fase diremmo così quasi finale cioè quando sta parlando del reale no? e bisogna tenere conto che no non è che la scienza della logica vada avanti la scienza della logica è una specie di spirale no? che sta approfondendo semplicemente quello che ha detto quindi la riga 1 della logica dell'essenza non è che viene superata dalle pagine successive della logica dell'essenza viene approfondita quindi noi stiamo in realtà approfondendo in quelle pagine finali della logica dell'essenza quello che noi abbiamo letto all'inizio cioè questo contraccolpo quindi già solo questo dà l'idea che in realtà una qualche connessione ci deve essere per forza ma qual è? ecco Hegel si esprime così che cos'è la necessità cioè il reale? dice Hegel la necessità è indifferente alle sue differenze cioè la necessità è cieca comincia no? è cieca che c'entri qualcosa ed ipo si capisce no? si comincia a capire cioè cosa vuol dire? che le sue differenze si presentano da principio proprio lo sto citando eh come indipendenti tra loro ossia non recano traccia della propria relazione con altro questo vuol dire che questo tavolo non reca all'inizio la sua relazione non dà evidenza della sua relazione con questo libro o con quella sedia all'inizio questa cosa non c'è noi non ne sappiamo niente della relazione che c'è tra questa io diciamo così appoggio questo e dico adesso comincio a capire che c'è una relazione perché per esempio il tavolo sta impedendo al libro di cadere per terra allora lo so ma non è che il tavolo alza la mano fino a subito guarda che io sono in relazione con quel libro per cui se tu appoggi il libro io lo fermerò non mi dice questo il tavolo lo dice come tavolo ma la necessità dice Hegel è cieca non mi dice quelle parole in italiano in tedesco eccetera ma lo fa la realtà dice Hegel dell'uno e dell'altro cioè di questi due differenti all'interno della necessità cieca la realtà dell'uno e dell'altro è attenzione appena detto che la necessità è cieca è accidentalità è accidentale cioè è accidentale non c'è nessun legame necessario tra il tavolo il libro la sedia non c'è nessun legame necessario il loro rapporto è accidentale e non potrebbe che essere così perché la necessità è cieca quindi non è che è un contenuto posto no? ora Hegel dice questa accidentalità questa accidentalità è la necessità è cioè l'essenza di quelle realtà libere cosa vuol dire l'essenza di quelle realtà libere nel senso che il pensare quando può raccogliere il rapporto esistente tra il tavolo e il libro tra il tavolo e la sedia allora dice aspetta l'essenza di questo tavolo è il fatto che è in rapporto a questo che non è per esempio questo libro che non è questa sedia che se provo a mettere la sedia qua il tavolo le fa resistenza eccetera eccetera questa accidentalità potremmo dire così diviene necessità nel pensare ora dice Hegel proprio questa essenza cioè l'essenza che è questa necessità questa ha in orrore la luce cioè cosa vuol dire che il tavolo non mi manifesta fin dall'inizio che è in rapporto col libro che è in rapporto con la sedia no? non me lo manifesta mica all'inizio non è che dicevo prima che mi alza la mano e dice guarda che è così me lo dice dopo che cos'è questo dopo no? questo dopo è il divenire nel divenire si manifesta l'essenza perché c'è bisogno del divenire c'è bisogno del tempo perché il pensare possa raccogliere l'essenza delle cose e costruirla e costituire quell'ordine che è la sostanza delle cose ma questo riferimento di Hegel all'accidentalità è centrale e qui comincio a venire al punto in cui diciamo così penso che davvero questo sia Hegel in Italia perché Edipo quando si mette a indagare chi è il colpevole della peste a Tebe dice io sono figlio della Tiche e Tiche qui è proprio la sorte come mostrava benissimo Carlo Diano per questo c'è un modo particolare secondo me di pensare Hegel in Italia perché tanti italiani si sono interrogati su questa cosa qui Diano mostra come in realtà l'edipo re di Sofocle è la risposta che Sofocle dà dal punto di vista della sapienza tragica ad Anasagora ad Anasagora che aveva stabilito che il nuovo dio non ci sono gli dei come pensavano c'è un dio solo il Nus che conosce questo è il nuovo dio da cui Socrate allievo di Anasagora da cui appunto Platone eccetera eccetera ah sì dice Sofocle questo Nus sarebbe il nuovo dio ti faccio vedere io che dio è nell'edipo perché? perché edipo dice io come ho risolto l'enigma della sfinge così risolverò il prossimo enigma cioè perché c'è la peste a tebe chi è l'uccisore di questo lo farò io io sono figlio della tica no non ero nessuno e sono diventato il re di tebe quindi io ho la fortuna diciamo così ho la sorte lui la intende come buona fortuna fino a quel momento io ho la sorte mi è dato in sorte di risolvere enigmi cioè io sono l'uomo della conoscenza fondamentalmente antelitteram no? Sofocle lo costruisce sulla base proprio di Anasagora che pensava che il Nus fosse ciò che in noi è Dio la manifestazione che cos'è in definitiva è un tramonto cieco nell'essere altro il divenire è la riflessione è l'apparire della relazione il divenire è l'apparire della relazione che c'è tra questi essenti che prima erano distinti cioè del fatto che io uccido mio padre non so che è mio padre esattamente come non so qual è la relazione tra questo tavolo e questo libro vado a letto con la madre e non so che quella lì è mia madre esattamente come non so che questo tavolo ha una relazione con quella sedia per me all'inizio è tutto accidentale nel divenire nella riflessione io scopro questa cosa e cosa dice Edipo quando capisce tutti gli altri hanno già capito naturalmente anche Giocasta gli dice basta non indagare oltre perché hanno già capito tutti lui no e cosa dice quando capisce che è lui no 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 va persino dal contadino che lo ha portato no su sulla vetta e lui capisce le parole sono molto chiare preciso emerge il tutto cioè adesso ho la relazione di tutti i relazionati tra di loro cioè ecco adesso posso porre nel pensare la necessità cioè quella che prima era relazione accidentrale tra gli enti adesso diventa necessità perché la so ora sul piano logico pensateci un attimo sul piano logico Edipo ha vinto ha risolto l'enigma ha trovato il colpevole domanda e qui è dal gioco di Sopocle no contro contro Anassagora domanda sei sicuro che va tutto bene cioè nel senso hai trovato il colpevole peccato che il colpevole sei tu questo è il ritorno esattamente al presupposto tu Edipo puoi conoscere quello che ti pare ma proprio il fatto che vuoi conoscere ti fa conoscere il fatto che tu da sempre sei parricida e incestuoso questo è il tuo presupposto questa è la tua hammung questa è la tua pesantezza non l'ostacolo che il pensare si trova cioè tu sei ribaltato contro di te il tuo pensiero ti ha fatto tornare a quella roba da cui non ti schiuderai mai perché non è che la sai perché lo sai quello non è un contenuto saputo quello è il tuo esistere non fa parte del tuo sapere fa parte del tuo essere cioè il tuo sapere ti ha inchiodato in quella posizione dell'essere ha voglia di dire però la so sì la sai ma sei parricida e incestuoso ora che lo sai cioè ora che il pensare si è messo in moto ed è tornato a se stesso ed è tornato al suo al suo presupposto cioè appunto qui pensare è essere ecco il professor Vitiello in realtà in Hegel in Italia mostra già come il tentativo di Hegel sia quello di risolvere questa distanza tra essere e pensare nella logica soggettiva ovviamente soprattutto nella dottrina del sillogismo e tra l'altro così nel 2016 tornerà un articolo a parte sul pensiero proprio su questa necessità che Hegel ha di oltrepassare questa distanza di cercare di riconvertire davvero l'essere nel pensiero senza lasciarlo fuori proprio all'interno della logica soggettiva e cioè del sillogismo allora non potendo rifare tutto il percorso io sintetizzo il percorso con una riflessione che non è quella del professor Vitiello è di un amico molto caro al professor Vitiello che è Carlo Sini e che mi permette di essere molto più diciamo così sintetico per motivi proprio di tempo il punto focale è l'ultima figura del sillogismo che come tutti sappiamo è il sillogismo disgiuntivo il sillogismo disgiuntivo si presenta nella seguente forma A E è o B o C o D ma A è B quindi non è C e non è D punto? no o da cioè oppure dice Hegel oppure A è o B o C o D quindi la premessa maggiore è sempre la stessa ma non è né C né D quindi è A qual è la differenza tra questi due? la differenza è che tra queste alternative nel primo caso ho detto A è B cioè lo sto mettendo sul piano dell'essere A è B quindi come conseguenza se vogliamo porla logicamente frega quasi niente a nessuno perché tanto ormai lo sai che è B però non è né C né D diciamo così per completezza diciamolo nella seconda formulazione non è né C né D cioè è il pensare che pone delle relazioni cioè è il pensare che dice è il negativo non sto dicendo A è B ma sto dicendo non è né C né D quindi è A cioè è la deduzione del pensiero che riesce ad arrivare ad A non perché riesce ad arrivare a B non perché sa fin da subito che A è B escludendo gli altri ma siccome esclude gli altri a un certo punto dice quindi dal punto di vista invece dell'essere questo A è B cioè nell'Oda oppure in queste due versioni altrimenti non si chiamerebbe disgiuntivo naturalmente c'è la posizione dell'essere e la posizione del pensare e Sini propone ma non potremmo tradurre questo Oda egheliano con il Sive spinoziano e qui sta in realtà la mia domanda per il professor Vitiello ormai diciamo così tutta la fatica l'ha fatta Sini quindi io faccio giusto proprio un passettino e dico non è che potremmo tradurre quell'idem che c'è tra l'ordo rerum e l'ordo idearum ordo et connexio rerum idem est ac ordo et connexio idearum quell'idem non potremmo tradurlo in tedesco con ebensosea cioè con l'altrettanto bene perché a questo punto se potesse essere così davvero saremmo di fronte a qualcosa che è abbastanza mi permetto di dire kantiano in Hegel prima si parlava della verbindung verbindung non vuol dire unione verbindung è il collegamento cioè Hegel sta dicendo è il collegamento del collegamento e del non collegamento che cosa si mostra con questa licht schoie macht e cioè con questa potenza che ha in oro della luce con questo gegenstos con questo sillogismo disgiuntivo per cui alla fine quello che ti posso dire io Hegel che ho dedotto tutto è è un oda cioè il massimo che ti posso fare è essere e pensare è l'alternativa tra i due non vado oltre no? e a mio avviso questo significa che in realtà Hegel ha visto perfettamente che il collegamento tra il verbindung e la nicht verbindung cioè tra collegamento e non collegamento potrebbe altrettanto bene essere un non collegamento ossia per usare le parole Gentile non ovvero per smentire Gentile naturalmente quell'idem tra l'ordorerum e l'ordidearum non appartiene all'ordidearum cioè la critica di Gentile la sappiamo tutti no? Spinoza cioè Gentile legge Spinoza e dice si ho capito che tu mi stai dicendo che c'è l'ordorerum e c'è l'ordidearum ma l'idem che poni tra l'ordorerum e l'ordidearum a chi appartiene? al pensare perché no? chi è che può identificare i diversi quindi verbindung ecco la novità di Hegel su Spinoza cioè lui è sì che ha mostrato come il pensare tiene insieme il non collegamento e il collegamento e no forse no forse no nella misura in cui in realtà anche Hegel con quell'Oda con quell'Eben Zosea si è reso conto che in realtà non è tutto in mano non è tutto potenza del pensare perché naturalmente l'obiezione immediata di Spinoza a quella obiezione di Gentile ma quell'idem è del pensare si sarebbe no? perché se qualsiasi cosa che c'è nel pensare c'è altrettanto bene anche nell'essere no? perché allora quell'idem se tu me lo metti nel pensare vuol dire che ci sarà qualcosa diciamo così nella natura che è altrettanto bene essere di quel collegamento l'idem non può essere assegnato solo al pensare perché si presenterà anche sotto l'altro attributo cioè sotto l'attributo diciamo così dell'essere dell'estensione ecco forse qui Hegel proprio nell'approfondimento di Spinoza arriva con quell'ebenzosea cioè nel dire guardate che non è né l'uno né l'altro a cogliere il fatto che l'idem non può essere né assegnato all'essere soltanto e questo è chiaro perché non come sostanza ma non può essere assegnato solo al pensare perché è altrettanto bene come soggetto non solo come soggetto il che significa che c'è un ordo rerum che ti vincola a cui tu sei costretto a ritornare come tuo presupposto credo di essere stati nei tempi ringrazio il professor Valaguste se il professor Vitiello vuole una sola cosa voglio che tutto questo che viene costruito in questo modo viene costruito come dire sempre dopo un dopo la verità di A e B la verità o se vuoi la verità di 1 e 2 la verità di 2 e 3 e così via di seguito eccetera ecco come si spiega questa la relazione che hai fatto tu questo qui è quello che toglie la licht schoie è quello che toglie che rende tutto visibile come viene detto non avere però però il fine ultimo vuole essere proprio quello in Hegel vuole essere proprio quello perché tutta la parte che mi ha detto ma la gradisco molto dico soltanto che questo modo di ragionare eccetera eccetera illustra in un'altra forma quello che aveva detto Kant ma non mi interessa adesso vedere chi è prima chi è secondo eccetera mi interessa però questo ma dove metti allora in questo in questo modo in cui la licht schoie non viene mai superata del tutto perché se insomma fa parte alla fine alla fine non viene sciolto del tutto alla fine non stai non stai dicendo questo non hai detto questo mi sembra che ci sia troppa luce tanta luce da accettare anche l'assenza della luce mi sembra mi sembra ripeto che in Hegel ma in Spinoza parimenti c'è la totalità che domina ecco questo ora il problema invece è di cogliere dunque non la totalità ma di cogliere la particolarità la finitezza la finitudine eccetera eccetera ma non all'interno diciamo pure all'interno all'interno del tutto ma di quel tutto che non è qualcosa che noi sappiamo che noi costruiamo eccetera eccetera il tutto non si costruisce il tutto che cos'è un evento dice Carlo ti ricordi? ecco questa allora è da pensare che cos'è questo evento che cosa ha che cosa ha questa parola evento in Carlo Sino che poi ricorda anche l'eraignis eh sì ma l'eraignis quando Heidegger parla dell'eraignis che cosa dice? non c'è da dire niente di questo das eräignis eräignis è una spiegazione è una cioè non ritorna qui proprio quella lichtescheumacht sì ma non come apertura non come lichtescheumacht come quella lì che noi non conosciamo cioè è un evento è un evento che noi di cui non possiamo dare ragione insomma il problema eh sì ma se il problema stai dicendo che anche in Hegel è posto il limite della ragione visto che come dire ho seguito tante delle lezioni del professor Vitiello questa riscrittura dell'ultima triade dell'enciclopedia che cos'è se non cioè che cos'è se non è un po' troppo ma perché non leggerla esattamente come l'insoddisfazione di Hegel di fronte alla chiusura come l'incapacità di chiudere cioè l'incapacità di dire ho fatto luce su tutto no non me lo puoi dire non me lo puoi dire scusa perché e beh l'enciclopedia come si chiude insomma non ci sta una citazione particolare è una citazione particolare non parla di però però qual è la citazione non è Aristotele che viene cioè è quale è Aristotele ma sì ma però però lo riscrive cioè riscrive l'ultima triade in continuazione proprio perché probabilmente non è ha perfettamente presente che non è tutta luce quella luce se no perché la riscrive in continuazione allora dunque il problema che noi vediamo non è tutta luce ecco fermiamoci a questa cosa che significa non è tutta luce che cosa significa che non è tutta luce se come dire la il il feed della fenomenologia è quella di portare alla luce tutto eccetera eccetera che significa che non è tutta luce che cosa significa che cosa significa che il tutto non è tutto perché se il tutto è luce allora il tutto non è tutto che il tutto non c'è mai questa guarda noi forse stiamo litigando soltanto sulle parole veramente perché mi serve quando tu mi dici che lì che non è tutta luce dico non volevo dire altro che questo aggiungo soltanto che Kant ne era pienamente consapevole diciamo lo stesso forse con percorsi diversi ma diciamo lo stesso ma 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 guarda no l'ultimo l'ultimo dunque l'unica cosa che detesto fare cioè tutto che non voglio fare proprio perché la detesto riportare un altro a me perché significa riportare un altro a me significa Enzo non è capito di niente perché anche se detto diversamente è detto diversamente bisogna spiegare allora io sono veramente interessato di questa cosa mi sembra quindi di trovare una interpretazione di Hegel che non è quello che come dire lo Hegel sempre conosciuto sempre detto cioè lo Hegel che dà la totalità del mondo che ha scritto tutta la storia eccetera eccetera va bene adesso lo sto riducendo proprio a come dire a spezzoni di ignoranti eccetera eccetera quello che dico io insomma ecco questo qui ecco allora dove sta dunque perché se tu mi dici che questa è la posizione di Hegel eccetera eccetera ma io io non ci sto non ci sto perché se c'è stata una persona che ha potuto scrivere non puoi dunque devi ma devi e quindi puoi questo mi sembra che sia una differenza differenza è il fatto che nella riflessione hegeliana il devi viene il devi va bene se vogliamo parlare con il devi possiamo dire tutte le cose eccetera eccetera questo spregio eccetera eccetera perché perché il vero è vero perché è reale è reale è reale perché è vero è proprio questo proprio questo che deve essere messo in dubbio perché se non insomma nella tua costruzione beh allora la logica ci fa capire tutto ma non ho questa fiducia se vogliamo dire così la logica ci fa capire tutto la lichtescheimacht non è un elemento negativo e considero dunque la lichtescheimacht non è una contraddizione di Hegel non è un fatto di andare a trovare la contraddizione è una cosa stupidissima dunque il problema è che in Hegel alla fine la lichtescheimacht individua l'elemento di limite della ragione umana e allora non possiamo fare dunque da questo punto di vista c'è anche una come dire credo che questo sia non soltanto un dialogo come dire di filosofia di queste astrazioni il tutto eccetera eccetera credo che questo abbia una come dire una potenza nella nella comprensione della storia del mondo nella comprensione dei limiti della cultura greca eccetera eccetera che ha esaltato il rapporto potere sapere perché il sapere insomma questo è ancora Aristotele il sapere che come dire è il generale che deve guidare l'esercito questa è la metafisica eccetera eccetera ecco dire tutto questo sapere e potere c'è anche possiamo fare perché vabbè voi filosofi parlate così le vostre ragionamenti non hanno come dire forza di realtà mentre invece la scienza ci ha portato sulla luna e così mi seguono è il potere che ad un certo momento si è impadronito del sapere se io devo dire qual è l'autore il filosofo contemporaneo contemporaneo di una contemporaneità insomma del moderno della modernità chi è che ha sostenuto questo eccetera eccetera ma perché Hegel ha avuto tale supremazia di come dire di lettura di 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 fascino di importanza eccetera eccetera nel nostro tempo perché appunto ha legato fortemente sapere e potere e poi 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 è venuto qualcuno io vi racconto la storia dei prossimi due decenni due secoli si tratta di capire se se Hegel sta davvero legando sapere e potere cioè quando non so Hegel parla del giudice nei lineamenti che a un certo punto parla del giudice nei lineamenti che a un certo punto per quanto siccome non può dire se non può affidarsi alla legge se è un giorno in più un giorno in meno quindi decide perché è un uomo colto perché a un certo punto sulla base quando dice che il re a un certo punto spezza la catena delle decisioni quando dice che lo Stato non può rendere tutti ricchi ma quindi subito senza aspettare che lo Stato eserciti quello che noi chiameremo il welfare subito va in un'altra terra cioè tutte queste figure non sono forse proprio il modo in cui Hegel mostra che in realtà non è vero che sapere e potere sono legali non è che dice il re considera tutto e sulla base di un sillogismo decide no decide tagliando le argomentazioni è l'affermazione che insomma quello che è pensato è reale quello che è reale è pensiero eccetera eccetera mi sembra che ho detto nella adesso non è che voglio riportare alla come dire Hegel alla canzoncina che si fa di Hegel eccetera eccetera però è un'affermazione che bisogna perché il vero è reale il reale è vero eccetera eccetera cosa significa questo credo che sia ma se tu lo pensi dal punto di vista di Edipo però scusami se ti interrompo ma se tu lo pensi dal punto di vista di Edipo cioè è razionale che lui è parricide incestuoso certo perché poi lo scopre è proprio vero cioè è proprio è proprio il reale cioè ma questa cosa qui il fatto che la sai ti svincola dal fatto che lo sei no? eh appunto ma allora no ma il problema non è che lo svincola quello lo lega nel caso di nel caso di Hegel quello lo lega dico amico caro tu hai fatto questa cosa non lo sapevi e poi lo sai non ti preoccupare è necessario che lo saprai è proprio questo insomma queste filosofie della necessità sono come dire per me dunque però voglio dire proprio per limitarmi insomma per dire questa insistenza che io ho sul tema poi del possibile eccetera risale ad un pensiero che mi è venuto ma molto molto molti molti anni fa una volta che ho pensato che questo domani potrebbero non esserci domani ecco questo ho pensato e questo guardate è la cosa che comunque mi tormenta dico tormenta insomma nel senso filosoficamente di questo di cui io non do non do nessuna risposta questa può essere anche la più grossa fesseria che sia mai stato pensato pensato non dico però questo come lo come lo intende questo insomma mi sembra che stiamo in un mondo in cui questo pensiero può avere un suo diritto ad essere considerato considerato non accettato questo ecco e questo ritieni che un'affermazione del genere possa essere sentita in un in una posizione come quella di Hegel di Hegel di Nietzsche e così via di seguito a me non a me non sembra insomma e anche molte filosofie del delle Reignis mi fanno dubitare quindi la soluzione che tu hai data che apprezzo moltissimo dal punto di vista teorico è dell'Ixte Scheuer Macht che qui non faccio nessuno non dico non è pensata bene eccetera eccetera per carità non sarei stupido a fare una cosa di questo però è tutto insomma per esempio il tuo spaventa o il nostro spaventa non sarebbe d'accordo quando parlo di un essere o di un essere eccetera eccetera questo è la cosa perciò mi spaventa quando sono riuscito a capirlo dopo tanti anni mi ha affascinato come sai abbiamo sempre parlato tu sei stato anche editore insomma di spaventa eccetera questo è il punto in cui ci incontriamo ma non sono più così sicuro di quello di quello che di questa interpretazione di Hegel che ho seguito mi sono sforzato di seguire insomma poi la condizione l'opposizione che io faccio ma allora sappiamo sempre dopo la cosa e anche il tuo esempio che hai fatto lo sappiamo sempre dopo sempre dopo ma perché il dopo è la verità del prima c'è una spiegazione di questo se tu allora se poni la cosa in questo senso c'è d'altra parte il fatto che nel momento in cui visto che questo collegherebbe sapere e potere c'è d'altra parte proprio nell'esempio di Edipo il fatto che una volta che lo sai comunque non ci puoi fare niente appunto comunque non ci puoi fare niente e quindi c'è una disconnessione tra sapere e potere perché se non la disconnessione però per carità non è questo che io dico che io nego c'è una disconnessione ma dove il potere ha vantaggio sul sapere perché il sapere tutto può fare soltanto come dire appoggiate su questo beh questo significa questo insomma se io devo pensare la storia del novecento e quello che stiamo facendo ancora noi stiamo facendo noi non siamo fuori ecco se c'è un pericolo che il mondo che il mondo non si sia più oggi stiamo in questa in questa cosa ed allora quel pensiero che mi venne da giovane eccetera eccetera domani potrebbero non esserci domani non è proprio una fessata no no ha molto a che fare con Edipo no? ha molto a che fare con Edipo Edipo è il re di Tebe eccetera eccetera non sa che c'è un evento che fondamentalmente gli toglie letteralmente il domani cioè che lui non sa che fare sì ma per Edipo è una cosa perché è una parte e non è il tutto forse non è casuale che noi diciamo così insistiamo su quelle parti di Hegel che forse sentiamo anche più contemporanea a noi no? cioè Hegel forse non è più da leggere come il totalizzatore ma esattamente come colui che invece in questo percorso che può dare anche l'impressione di essere totalizzante lascia tutta una serie di vie che si spalancano e che mostrano che appunto questa ricomprensione non c'è sin dall'introduzione della fenomenologia dello spese si dice che il tutto verrà chiarito che è la fine e che tutta la fenomenologia tenete presente anche qui tutta la fenomenologia la fenomenologia che vuole essere il corso del pensiero che a un certo momento riesce a spiegare anche se stesso eccetera eccetera la off-embarung eccetera del tutto questo è un presupposto da che cosa lo dimostra? questo qui è fuori della insomma se B mi spiega A e C mi spiega B eccetera 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 alla fine potrei dire vedete che il tutto spiega le parti eccetera eccetera sì ma il tutto da che è spiegato? la mediazione quando si pone la mediazione come la capacità di spiegare i mediati eccetera eccetera la domanda che si pone che ho posto variamente eccetera eccetera ma mi sembra in forma troppo astratta e la mediazione da che cosa è mediata? il terzo sillogismo vuole rispondere a questa domanda sì il terzo ma il terzo è l'unico eh no chiedo scusa ma io come dire vorrei dire che questa è la mia gratitudine insomma io ho appreso e già che qui ci sono anche molti miei allievi adesso colleghi io ho appreso da loro ho un debito con loro che non che non credo posso come dire risolvere dopo insomma anche perché non ritengo che la verità è quella che io dico vere sono le mie parole se vengono accettate come tale dagli altri ma e voi chi dite che io sia e questo è un insegnamento che io continuo a dire non sono io la verità di me stesso sono gli altri che mi danno verità quindi tutte le cose potete dire adesso hai detto solo fesserie e io ho detto solo fesserie insomma questo è il problema è questo insomma altrimenti il fatto del dialogo eccetera sono tutte finzioni diciamo eh dialogare eccetera eccetera io non ritengo di essere e voi chi dite che io sia insomma capite questa domanda dico questo come la forma poco come dire significativa del mio ringraziamento a tutti voi grazie ringraziamo il professor Valagusta ci prendiamo dieci minuti di pausa e poi riprendiamo cinque minuti poi c'è il professor Adinolfi ci sta uno che mi picchiera forte che voglio sentire allora ricominciamo e c'è subito la parola al professor Adinolfi docente di filosofia teoretica all'università Federico II di Napoli ci parlerà appunto dei limiti del possibile tra Hegel e Spinoza e poi lasceremo direttamente spazio al dibattito non lasceremo spazio al dibattito perché temo che anzi io lo farò apposta a finire alle sette meno un minuto in modo da impedire qualunque dibattito a cominciare dal titolo della relazione perché se l'ho dato io ero molto stanco non l'ho dato io ah ecco perché mi dice cavolo ho dato un titolo che ha due parole nel titolo che non sono spinoziane nel limite nel possibile è possibile che ho dato un titolo simile però mi atterrò comunque allora la traccia assegnata e cioè proverò a dire qualcosa su Spinoza e Hegel a partire e qui è un piccolo di versi di smande che mi sono permesso da una nota di Enzo Vitiello no quindi la mia sarà una nota su una nota di Enzo Vitiello cioè il famoso saggio di Derrida una nota su una nota di Simon Sight e io faccio la mia nota su una nota di Vitiello e come quella nota peraltro era una nota lunga impegnativa è la prima cosa che Derrida sottolinea così io mi sono scelto la nota più lunga che c'è in un testo che in realtà non è dedicato almeno formalmente né a Spinoza né a Hegel perché si tratta del lungo lunghissimo 170 pagine di saggio introduttivo alle tre edizioni della Scienza Nuova di Vico pubblicate da Bonpiani quel saggio è diviso in tre parti è praticamente una monografia è difficile chiamarlo un'introduzione se non altro per la mole è diviso in tre parti in realtà solo la terza parte è dedicata direttamente alla Scienza Nuova ai testi vichiani la prima parte affronta una questione che attraversa tutta la produzione filosofica di Vitiello da 40 anni a questa parte cioè il moderno che cos'è il moderno per dirla con una parola e la seconda parte invece è dedicata a Spinoza in particolare che possiamo dire il contemporaneo capitale di Vico questa espressione che io la uso spesso l'ho vista usata a proposito di Cartesio che è il contemporaneo capitale di un bel po' di filosofi nel Seicento e mi piace mi convince la uso volentieri anche in questo caso la nota si trova in questa seconda parte e tratta appunto del rapporto tra Spinoza e Hegel e lo fa per giunta in discussione con un altro interlocutore potrei dire un contemporaneo capitale di Enzo Vitiello che è Biaggio De Giovanni che aveva pubblicato da poco un libro su Spinoza e Hegel Dialogo sul moderno anche lì sicché i protagonisti diciamo così di questo di questo confronto sono Spinoza e Hegel da una parte lato classici autori per dirla convicano classici della tradizione del pensiero e Vitiello che li discute prendendo in considerazione il lavoro di De Giovanni lo dico incidentalmente perché in realtà è stato richiamato da Francesco e sono contento per questo ma c'è un'altra nota importante in questa seconda parte del saggio dove ancora è in questione Spinoza in particolare il rapporto tra la sostanza e gli attributi e in quel caso il contemporaneo capitale è Carlosini quando Francesco ha concluso citando la lettura siniana del sillogismo digiuntivo di Hegel io per un momento ho pensato che potevamo risparmiarci i tre quarti d'ora della mia relazione perché quella conclusione mi ha fatto felice salvo che lo dico con una battuta poi forse dal testo da quello che dirò dalla mia relazione si capirà salvo che mi è sembrato volesse kantianizzare Hegel mentre invece la mia intenzione è quella di riportare semmai Hegel e la Spinoza non accanto se no la polemica con Enzo non è accesa come io mi auguro che sia e dunque vengo allora a questa nota poi ripeto se riuscirò a toccare anche quell'altra nota e l'altro dialogo che mi è impegnato e imbastito lì tanto ti guadagnato ma vengo al contenuto di questa nota che proverò a disporre brevemente per quanto possibile la nota interviene a commento di questa affermazione ora quel volumore era scomodo da portarlo altrimenti l'avrei portato volentieri avrei citato direttamente dal libro ma insomma la proposizione che viene appunto annotata è ciò che nel sistema di Spinoza non trova spiegazione è il molteplice il molteplice ossia la natura naturata le infinite modificazioni della sostanza e via così non trovano spiegazione in Spinoza e qui interviene la nota perché Vitiello in nota ci dice questa accusa chiamiamola così questa critica come vogliamo è la tradizionale accusa mossa da Hegel a Spinoza l'accusa di acosmismo insomma se c'è un problema che ha Spinoza il sistema filosofico di Spinoza è appunto questa impossibilità di dare spiegazione del molteplice e così di rovinare la relazione tra Dio e mondo l'acosmismo di Spinoza sta qui ma aggiunge Vitiello Hegel ha così tanta ragione nel criticare l'acosmismo di Spinoza che questa critica questa accusa può essere ritorta anche contro di lui cioè c'è un acosmismo di Spinoza così come c'è un acosmismo di Hegel naturalmente contro Hegel cioè contro le sue esplicite espresse intenzioni perché altrimenti altrimenti non si capirebbe il sale della critica che consiste appunto nel ripiegare la critica rivolta da Hegel a Spinoza su Hegel medesimo e partono così le quattro pagine che dicevo quasi quattro pagine di una nota lunga di impegnativa che comincia innanzitutto con ricordare appunto la critica hegeliana che si può riassumere Hegel viene citato da Enzo a partire in questa nota ovviamente a partire dalle lezioni sulla storia della filosofia ma come è noto visto che è stata sollecitata in particolare la scienza della logica la critica si ritrova se posso dire così ora mi consentirete di essere sbrigativo ma insomma tal quale anche nella scienza della logica dove non mancano gli apprezzamenti Spinoza è l'inizio essenziale del filosofare bisogna passare per Spinoza però ovviamente resta il punto resta la critica cioè il carattere solamente estrinseco e surrettizio della relazione fra la sostanza e il modo che non trova in Spinoza secondo Hegel alcuna giustificazione prima gli attributi poi quella che Hegel chiama appunto l'estrema esteriorità del modo sono semplicemente appiccicati alla sostanza raccattati empiricamente e messi lì come la classica obiezione che si fa a proposito degli attributi e gli infiniti attributi poi in realtà quanti ce ne nomina Spinoza solo due guarda un po' il pensiero di estensione come mai sono due come si spiega questo due via di questo passo e naturalmente anche per i modi non c'è una deduzione del finito manca una deduzione del finito secondo me non ci deve essere ma questo è un pensiero mio che non ha che dico qui veramente in maniera del tutto incidentale la critica di Hegel è giustificata per il fatto che il modo la determinazione è pensata soltanto negativamente in Spinoza omnis determinatio est negatio è la frase famosa di una lettera di Spinoza che viene messa in valore da Hegel per dire che se la determinazione è negazione non può trovar posto nell'assoluta positività della sostanza quindi nell'essere vero nella verità dell'essere il modo non è e non è nulla fin qui è la critica ripeto di Hegel a Spinoza dopodiché bisogna ripiegare come dicevo prima come è scritto nella nota questa critica a danno di Hegel di Hegel medesimo che è l'operazione che viene eseguita brevemente perché in realtà anche su questo ora un'occasione anche minimamente celebrativa contro la volontà di Enzo ma va detto che è un argomento che Enzo ha impiegato anche altre volte cioè la troviamo qui in questa nota a me faceva comodo ed era anche divertente questa storia della nota su una nota ma in realtà è una critica che appartiene a quel confronto di cui ha così bene ragionato Francesco prima che Vitiello ha condotto sui testi hegeliani dal primo saggio che è del 73 quindi celebra 60 anni se non sono andate a guardare qual è il primo saggio di Hegel su Hegel di Enzo che nel 73 è ripubblicato nel 79 in Hegel e Heidegger e quindi compie 60 anni questo qui siamo tutti giovanissimi allora perché si può ripiegare questa accusa e muoverla a Hegel stesso da un lato c'è l'infinita indistinta universalità della sostanza in cui affonda il modo e con il modo il finito eccetera eccetera dall'altro lato c'è però la singolarità hegeliana che prima veniva appunto mostrata come esito del sillogismo hegeliano che implode scrive Enzo perché non riesce a riunire cioè a rifenire a unire a tenere ad un tempo come dire distinti la parte del tutto l'universale e il particolare la parte non riesce cioè ad essere espressiva delle totalità delle relazioni che sono quelle relazioni che venivano prima ricordate non riesce ad essere espressiva della totalità delle relazioni senza per dir così confondersi con le altre parti con le quali in relazione e se non ora mi accorgo di non aver citato le parole precise di di Enzo ma l'alternativa che si presenta in maniera del tutto eporetica ho provato a riassumerla così o l'altra parte con cui ha in relazione nel sillogismo che prima veniva ricordato mantiene un'esteriorità rispetto alla prima ma allora l'una non può valere come il concetto universale come l'universale concreto oppure non mantiene una simile esteriorità ma allora proprio perciò precipita nell'indistinzione nelle parole che ora non ricordo letteralmente ma più o meno e che Enzo riconoscerà con le quali questa aporia viene evidenziata se A deve essere in relazione a B deve essere in relazione anche con la relazione che B intrattiene con A a quel punto non c'è più alcuna prospettiva distinta di A da B e tutto precipita nell'indistinzione per dir così nel singolare l'universale la totalità delle parti collassa letteralmente è importante aver presente che non si tratta di un difetto di argomentazione cioè non è che Hegel non costruisce bene il suo sillogismo almeno non è questa l'intenzione con la quale viene evidenziata la difficoltà logica ma si tratta per l'appunto di una difficoltà logica cioè di una difficoltà del logos di una difficoltà della cosa stessa e questa di nuovo per l'occasione vale la pena dirlo è una osservazione che in genere riguarda tutti proprio la maniera di leggere i classici alla quale Enzo ci ha educati perché non si tratta di mostrare faccio per dire la potenza che è in orrore la luce ha interessato se non ho capito male Enzo nella misura in cui mette in evidenza qualcosa che rimane non risolto Hegel ma perché non può esservi risolto se non cancellandosi come potenza che è in orrore la luce e di nuovo si tratta quindi di una difficoltà strutturale diciamo così la cui soluzione è la cui cancellazione per dirla in una parola quindi non si fanno le pulci diciamo così ai grandi filosofi si mettono in evidenza quelle aporie che danno da pensare quello che rimane da pensare all'interno di pagine che proprio perciò in virtù di queste contraddizioni mantengono la loro forza torno però alla nota dopo aver mostrato il collasso tra finito e infinito nei due versanti o perché il particolare si annega nell'universale o perché l'universale implode nel particolare precipita e collassa nel particolare viene preso in considerazione anche il tentativo che De Giovanni conduce in un saggio che viene giustamente giudicato originale che è notevole anche solo per l'età in cui è scritto il saggio di De Giovanni il tentativo di mantenere diciamo così una relazione tra infinito e finito tra infinito e finito chiedo scusa in cui il finito non sia semplicemente assorbito dall'infinito questo è il tentativo che fa De Giovanni giocando spinozza metteteci un po' di virgolette contro Egel in dialogo con Egel c'è una parte che è effettivamente dialogata nel libro e dove sta la proposta di De Giovanni nel pensare proprio la negatività del finito come ciò che mantiene il finito a distanza dalla positività del finito e ne impedisce la risoluzione nell'infinito come se l'infinito fosse per dir così solamente lo spazio aperto in cui il finito in quanto negativo si tiene a distanza dalla positività del finito lettura originale ingegnosa nota Vitiello che però non impedisce alla poria di ripresentarsi se infatti la distanza è vera se c'è il finito che la pone con la sua domanda si potrebbe dire così che il finito è la domanda sull'infinito sorge come domanda sull'infinito e allora se è il finito che pone la distanza con la sua domanda allora è necessario riconoscere che l'infinito è solo una posizione del finito è solo un'immaginazione del finito per usare un termine spinoziano come in Kant potremmo dire un parto dell'immaginazione se invece è posta veramente quella distanza cioè se è posta dal punto di vista dell'interletto dal punto di vista della scienza dei di nuovo per usare termini spinoziani allora essa è anche già stata da sempre tolta e superata naturalmente insomma se quella distanza c'è non c'è l'infinito ma se non c'è non c'è il finito se non c'è la distanza non c'è il finito se c'è la distanza non c'è l'infinito e questa situazione è costitutivamente aporetica e per questo conclude Vitiello e anche qui proprio con questo spirito di ricapitolazione generale a me pare di poter dire che questo famoso pendolo che oscilla tra Hegel e Kant ha trovato per questo il suo ultimo battito in Kant si tratta di ritornare di fare quel passo famoso a Kant dopo Hegel o anche a Cartesio dopo Spinoza siccome mi è toccato di occuparmi anche di Cartesio lo dico anche qui incidentalmente ma è dopo tutto il contemporaneo capitale di Spinoza e di Vico diciamo così in questa ideale triangolazione anche Cartesio rappresenta al modo in cui lo rappresenta Canto l'altro grande scoglio metafisico contro il quale si infrangono i sistemi metafisici moderni nel caso di Cartesio sembra meno voglio meno ovvio ma se leggete il cogito alla maniera in cui ha provato a leggere Enzo Vitiello e non solo l'altro nome che mi viene di citare quello di Jean-Luc Marion che dice una cosa analoga riguardo alla posizione di Cartesio e Canto rispetto alla tradizione metafisica moderna beh se leggete il cogito a partire dalla distanza irrisolta tra cogito e sum tra cogito S del sum potremmo dire così ritrovate la stessa figura quindi la stessa opposizione potete costruire usando quest'altra coppia Spinoza Cartesio simmetricamente in maniera omologa a quella Hegel e Canto e dunque siamo riportati dicevo a Cartesio e a Kant e siccome e così la finisco e poi vengo al punto che mi interessa e siccome si tratta pur sempre di una nota ad un saggio su Vico in cui si introduce Vico siamo riportati anche al Vico che non a caso Enzo prima ha richiamato in uno dei passaggi della discussione che ha avuto prima dopo l'intervento di Antonio siamo riportati al Vico che converte la necessità metafisica del Dovette queste sono parole di Enzo del Dovette deve dovrà della storia ideale eterna in un imperativo morale religioso in una forma di pietas e così si conclude proprio il saggio così vi ho restituito anche la conclusione del saggio della cui nota mi sto occupando è il Vico che fa esperienza dei limiti della scienza nuva dei limiti della scienza nuva e si potrebbe dire così con una formulazione che scimmiotta Enzo se ogni scienza del limite del finito toglie il finito allora non vi può essere scienza del limite e questo è appunto il limite della scienza questo è già detta con altre parole ma con questa idea che il limite è la consapevolezza dell'ignoranza del limite è già detto in topologia del moderno se non vi può essere scienza del limite è questo stesso il limite della scienza ho riassunto la nota salvo un passaggio sul quale ora mi soffermo e che cito per intero chiedo scusa anche questa citazione è un po' lunga ma tanto arriverò alle 7-5 minuti non meno 1 ma meno 5 scherzo spero di finire prima mi sembra vada oltre il segno sono parole di Enzo mi sembra che vada oltre il segno l'argomento che per Spinoza la posizione della sostanza non altro è che il riconoscimento del mondo altro nome per indicare il medesimo che la sostanza il Deus si venatura e così via non è altro che il riconoscimento che il mondo c'è qui sta prendendo di mira ho letto male con poca espressione sta prendendo di mira la tesi che in fondo la dimostrazione della sostanza di Spinoza non è altro che la dimostrazione della precedenza del mondo rispetto ad ogni tentativo di dimostrarlo questo argomento così come l'ho riformulato si capisce ancora meglio che in buona sostanza ripete la tesi edegheriana che l'intervert sign precede ogni possibile dimostrazione del mondo e dell'essere nel mondo è la famosa tesi che l'internation non sa è tale che dice stiamo ancora con la dimostrazione dell'esistenza del mondo quando il vero scandalo non è che manchi questa dimostrazione ma il fatto che si ritenga di dovero dimostrarle perché in realtà il mondo precede ogni tentativo di dimostrarlo ecco questo argomento questo tentativo di riciclare un verbo ancora più spudorato di ricicciare la dimostrazione spinoziana dell'esistenza della sostanza in questa forma come una dimostrazione della presupposizione precedenza assoluta del mondo questo argomento valido per una filosofia del finito quale voleva essere quella di Heidegger ma aggiungo subito valido fino a un certo punto che l'affermazione del mondo come presupposto del finito non è essa stessa finita questo argomento non lo è affatto per una filosofia che intende porre sé a fondamento di sé medesimo la ragione cioè a fondamento della ragione cioè volete pure rigirare così la frittata proponendo la dimostrazione dell'esistenza della sostanza come una dimostrazione della precedenza del mondo rispetto ad ogni dimostrazione della ragione benissimo al massimo lo può fare Heidegger cioè una filosofia del finito anche se questa stessa dimostrazione questa stessa affermazione della presupposizione del mondo non è essa stessa finita non lo potete far fare a Spinoza al razionalismo di Spinoza di una filosofia che intende porre la ragione a fondamento della ragione ovviamente queste parole questo pezzo della nota mi interessano in particolare perché ho scritto un libro intero ricicciando così la dimostrazione dell'esistenza della sostanza e quindi mi sembrava giusto provare a spiegare il senso di un'operazione simile e soprattutto ecco il punto che mi interessa se magari non funziona ma il punto che mi interessa è se sia davvero incompatibile se posso dire così o meglio se sia compatibile solo con una filosofia del finito perché è curioso il fatto che tra parentesi siamo in una nota e ora nella parentesi che si trova nella nota Enzo dica questa cosa la può fare Heidegger cioè una filosofia del finito poi parentesi ma in realtà manco Heidegger lo può fare perché rileggo l'affermazione del mondo come presupposto del finito non è essa finita quindi quando Heidegger fa questa cosa qui come devo dire si contraddice cioè vuoi fare una filosofia del finito però ti servi di un argomento che trascende i limiti di una filosofia del finito e perché perché l'immanenza dell'interwelt sign heideggeriano non può costituire per Vitiello lo sfondo di una filosofia del finito perché finito significa trascendenza naturalmente significa trascendenza come problema prima ad Antonio Enzo ha detto ma il numero che è fino a patto non l'ho letto da nessuna parte non l'ho sentito da nessuna parte perché finito per Enzo vuol dire trascendenza trascendenza come problema e non come soluzione dicevo e questo vale anche nella lettura di Heidegger nell'individuazione dello strato cristiano è una delle cose se posso dire così più belle che io abbia letto su Heidegger ma anche di Enzo il modo in cui legge sign on sight e vi ritrova appunto lo strato greco e lo strato cristiano e quindi finché rimaniamo nello strato greco l'immanenza del mondo l'interwelt sign non tocchiamo la questione del finito vera che si apre solamente quando tu pensi l'abisso di quel mondo e quindi la tradizione cristiana paolina la fenomenologia della vita religiosa e via così ma se così stanno le cose perché questo rilievo critico critico ora nei confronti di Heidegger così decisivo è collocato solamente nella parentesi della nota perché l'affermazione del mondo come presupposto del finito non è essa stessa finita questo è il rilievo critico Heidegger perché non potrebbe almeno provare a suggerire che beh se si ha ragione Enzo nel muovere questa osservazione allora magari proviamo a fare questa affermazione all'interno di un altro quadro non più di una filosofia del finito e qui viene in gioco l'altro punto dell'osservazione che vi ho letto prima perché Enzo dice voi così potete volete riciclare l'affermazione spinoziana dell'esistenza della sostanza ma in realtà questo se lo può permettere solo una filosofia del finito non una filosofia che pone la ragione a fondamento della ragione quindi una filosofia che pone la ragione a fondamento della ragione è incompatibile con una dimostrazione della precedenza del mondo questa povera precedenza del mondo è incompatibile con una filosofia che pone la ragione a fondamento della ragione ed è incompatibile pure con una filosofia del finito perché appunto come abbiamo visto va oltre i limiti del finito quindi sembra che non si possa proprio fare questa affermazione della precedenza del mondo il che è curioso perché a me sembra come devo dire lo dico scherzosamente mi rendo conto che non è un argomento mi sembra la prima e più evidente evidenza che noi abbiamo a disposizione la prima e più evidente evidenza che noi abbiamo a disposizione che il mondo ci precede il problema che però mi rendo conto è un po' più difficile mantenere ferma questa affermazione e riferirla ad una filosofia come quella di Spinoza la filosofia dell'idem messe tra ordo rerum e ordo idearum e come incidentalmente quella proposizione si trova nella seconda parte dell'etica e la settima proposizione nella seconda parte dell'etica e non si riferisce alla sostanza però sono d'accordo nella maniera nell'osservazione che veniva fatta da Francesco sono assolutamente d'accordo quell'idem non appartiene al pensiero non appartiene semplicemente al pensiero ma ora non deve essere questo un seminario su Spinoza e quindi queste cose posso lasciarle cadere la prima cosa che vorrei notare che qui ho notato mi scuso se appare una considerazione solamente lessicale è che io ho difficoltà a descrivere la filosofia di Spinoza come una filosofia che pone la ragione a fondamento della ragione perché fondamento così come totalità anche totalità sistema persino assoluto non sono parole che si trovano in Spinoza ora vi sorprenderà la cosa ma non si trovano in Spinoza totalità o meglio la parola totalità compare per essere criticata la parola assoluto c'è credo che tutti quanti la sanno ma sempre come aggettivo e mai come sostantivo non esiste il sostantivo assoluto in Spinoza qualcosa dovrà pur dire naturalmente la prima cosa che voler dire è che noi prendiamo questi vocaboli li prendiamo da Hegel cioè noi egelizziamo la lettura di Spinoza il che naturalmente è un problema visto che se c'è una cosa che Hegel dice chiaro è che appunto la filosofia di Spinoza ha un limite nel fatto di non essere una filosofia del soggetto ma tutti questi termini si sposano con una filosofia del soggetto quindi per lo meno come devo dire per rispetto nei confronti di quello che non è un sistema che Spinoza non presenta come un sistema dovremmo sforzarci diciamo così di non utilizzarli ma non voglio complicare troppo le cose la precedenza del mondo è l'altra cosa che va detta per venire in chiaro della natura di questa questione è che la precedenza del mondo di cui si è parlato se è qualcosa non è la precedenza di una presenza ed è per questo che non può essere affermata non può cioè prendere la forma di una tesi non può prendere la forma di un significato non è un'usia ora anche qui sarebbe molto impegnativo approfondire il punto ma mi serviva anche solo per giustificare il vezzo iniziale perché la nota su una nota di Sein und Zeit di Heidegger eh perdono la nota su una nota di Sein und Zeit di Derrida prende di mira la questione del tempo come ricorderete la questione del tempo da Aristotele a Hegel a Bergson che viene lì discussa da Derrida per mettere in valore mi riferisco solo alle bottute conclusive una parola di Aristotele che invece Heidegger non mette in alcun valore cioè il fatto che Aristotele dica anche solo per esprimere un dubbio non so bene come cavarlo non è Agostino che dice non so cos'è il tempo se qualcuno me lo chiede vado in crisi lo so ma se qualcuno me lo chiede vado in crisi però pure Aristotele dice il tempo non è un'usia cioè non saprei dire qual è l'usia del tempo la citazione più o meno sarà così non si può dire qual è l'usia del tempo quindi ecco perché voglio richiamare il punto così almeno non sembra che io che si tratti qui semplicemente di svicolare ma ci si trova di fronte a una difficoltà effettiva quando dico che la precedenza del mondo non è una tesi perché non c'è un'usia di questa precedenza ed è un altro punto chiave per intendere Spinoza dove colloco queste benedette essenze questo lo dico come istruzione diciamo così alla quale tengo molto nella lettura di Spinoza perché la maniera c'è il piano eterno e poi c'è il piano infinito il piano infinito il piano eterno ci mettiamo tutte le essenze che è proprio la negazione di Spinoza la cosa meno immanentistica che potete pensare per cui e quindi tutte le volte in cui possiamo dar per dire così la caccia all'essenza io sono ben contento ben contento di farlo comunque la precedenza del mondo non si presenta come affermazione della ragione ma poi aggiungo ancora qui solo la formula è kantiana ma perché rimane un vizio di gioventù che probabilmente va sollevata una questio iuris ecco il vizio di gioventù e credo che alcune delle cose che ha detto Antonio prima abbiano senso a questo riguardo una questio iuris io direi così riguardo al concetto di totalità cioè secondo me la facciamo un po' troppo facile quando diciamo tutto totalità che cosa intendiamo tutte le volte in cui diciamo tutto totalità non sempre è chiaro ovviamente questa cosa mi interessa nella misura in cui come come provo a dire la ragione che non può avere il mondo come posizione di una tesi non trova in ciò un limite e non è per questo una ragione finita ma semmai è finitizzato il mondo che si presenta in una tesi questo passaggio mi è indispensabile perché io sto cercando di utilizzare la dimostrazione dell'esistenza della sostanza come precedenza del mondo come assoluta presupposizione del mondo entro una filosofia che rinuncia lo dico in maniera un po' polemica alla retorica della finitezza allora io devo qui dirvi guardate quando dico che questa non è un'affermazione della ragione non sto indicando un limite della ragione sto facendo l'operazione esattamente contraria perché il mondo si presenta come oggetto di una tesi solamente per una ragione finitizzata e di nuovo allora quanto a che cosa significhi il tutto di cui si vorrebbe dar ragione dare un'occhiata all'orologio il tutto di cui si vorrebbe dar ragione perché questo tutto è di nuovo in quanto totalità del significato di cui appunto la ragione deve dare il concetto potremmo anche dire una totalità ben delimitata cioè è un tutto che io devo mettere tra virgolette è il nome tutto è il tutto contenuto nel nome il tutto nominabile nominabile come tutto cioè catturato nella forma determinata dalle risorse logico-linguistiche dall'oggettivazione logico-linguistica direbbe forse Sini e il dar ragione che dar ragione di tutto meno che del dare ragione medesimo rivela la finitezza non della ragione perché la ragione che dà ragione di tutto meno che di sé medesima così rivela non la finitezza della ragione ma la finitezza di questa ritorsione riflessiva la finitezza del circolo dell'autoriferimento innescato dalla pretesa con cui si pretende di nominare l'esercizio stesso della ragione cioè quello che noi osserviamo qui è il rimbalzo mi verrebbe voglia di dire l'assoluto contraccolpo tra oggettivazione e riflessione e quindi la riflessione è solamente il come devo dire lo specchio di un pensiero che si oggettiva che pretende di cogliersi come oggetto di nominarsi quindi è il limite di questo esercizio di pensiero che noi sperimentiamo e quindi la domanda diventa se davvero si possa presentare come una filosofia che intende porre la ragione a fondamento della ragione è la filosofia di Spinoza e se bisogna pensare che o la ragione fa questa oppure consegnata alla finitezza altra osservazione che mi viene necessario fare l'etica di Spinoza non ha una forma riflessiva non ha una forma nessuno riflette da nessuna parte mi verrebbe voglia di dire così e questa è una cosa una delle cose che io apprezzavo in Deleuze quando in che cos'è la filosofia si domanda che cos'è la filosofia e risponde di sicuro non è interrogazione di sicuro non è riflessione di sicuro non è c'è una forte vena polemica in questa cosa qui però a me questa cosa che solo i filosofi riflettono mentre invece gli scienziati non riflettono e c'è bisogno del filosofo che spiega allo scienziato il senso della sua pratica forse è uno dei pochi tratti del contemporaneo che a me mi viene voglia di condividere cioè della critica che la filosofia rivolge a se stessa in età postmoderna diciamo così non ha una forma riflessiva non c'è un pensiero pensante non c'è soggetto non c'è uno spirito che sa se stesso in assoluta identità con se stesso e per fortuna lo dice anche Enzo nel saggio quando nota lo dice come fosse lo dice però come permettimi come una critica cioè come un'inconseguenza di Spinoza quando discita la proposizione del 36 della quinta parte dell'etica che non mette alla pari che mette una distanza tra l'amor dei intellettualis e l'amor intellettualis di Dio per se stesso Spinoza non li fa coincidere e questo sarebbe per di così l'aporia l'aporia solamente se tu vuoi pensare alla filosofia di Spinoza come una filosofia della ragione che deve dare ragione persino di sé medesima ma allora fatte tutte queste queste osservazioni diciamo si prese tutte queste precauzioni come funziona la dimostrazione dell'esistenza della sostanza di Spinoza non ho il tempo e quindi non posso far vedere mi permetterei di dire secondo me era lontanissimo dal carattere di Spinoza un qualunque filo di ironia però se io riesco a vedercela persino nell'etica di Spinoza quando lui tira fuori una dimostrazione poi dopo aver dato la dimostrazione dice però se siete un minimo intelligenti sta cosa la capite senza dimostrazione cioè vanificando il senso stesso della dimostrazione per giunta anche basta questa osservazione se voi vi andate a vedere la dimostrazione non usa che arriva subito quasi subito arriva nella settima proposizione alla sostanza appartiene ad esistere nella settima proposizione nell'undicesima poi è Dio quindi arriva praticamente subito però nella settima proposizione che cosa si cita come procede Spinoza deve sempre dire grazie alla tale proposizione alla tal'altra proposizione posso concludere che e che cita Spinoza nella settima proposizione gli assiomi e le definizioni non le proposizioni e che razze di dimostrazione è i geodicata in termini come devo dire lo cioè presa come la si prende come la prendono i logici quelli che scrivono gli elementi di logica e libri è parecchio deludente come dimostrazione cioè su un piano strettamente logico riflessivo è parecchio deludente ora io però non ve la voglio riproporre nella maniera in cui secondo me la si può riproporre guardando soprattutto allo scolio che non ha la proposizione stessa sia il suo scheletro ma faccio solamente un'osservazione che di solito non viene proposta e collegata alla dimostrazione che cos'è un'idea per Spinoza perché se una dimostrazione se tu me la presenti come una dimostrazione che dall'idea dalla definizione conclude all'esistenza una variante dell'argomento logico qualcosa del genere allora devo chiederti cos'è dunque un'idea per Spinoza perché un'idea non è quello che noi pensiamo che sia ordinariamente l'idea di Spinoza è immediatamente ed è fondamentale per questo immediatamente posizione di esistenza cioè se io faccio l'esempio che usa non Giacomo ma Spinoza se io vedo Giacomo se ho l'idea di Giacomo ho l'idea di Giacomo come esistente ma siccome succede che vedo pure Pietro vedo Antonio vedo Enzo dove ho visto Giacomo allora quella che era un'immediata posizione di esistenza retrocede nelle retrovie dell'immaginazione potremmo dire così perché altra esistenza come devo dire mi assale oppure in termini più corretti storiograficamente ma l'esempio di Spinoza questo di Giacomo e Pietro l'idea non è una pittura muta questo lo dice in polemica con Spinoza con Cartesio le idee di Cartesio sono pitture mute di cui tu poi ti devi chiedere se c'è corrispondenza con l'esterno oppure no la questione della corrispondenza o della convenienza con l'ideato in Spinoza è del tutto estrinseca è del tutto estrinseca il che vuol dire che l'idea non sta prima in una qualche sede logica in una qualche sede logico-psicologica che è la stessa cosa lo dico in passando ma è un'enormità quella che ho detto non la potrei dire in passando ma l'idea è immediatamente posizione di esistenza salvo che non venga sospinta nell'assenza quindi la pittura muta di cui parla Cartesio è derivata è immediata è chiaro che da quella lì non tirerai mai fuori l'esistenza di Dio né di null'altro potremmo dire così e così siamo condotti al vero problema in conclusione che cosa significa pensare l'ens absolute infinito cioè la sostanza come vedete qui absolute è avverbio l'ent è definito infinito cioè il nome della sostanza di Spinoza è infinito non è né assoluto né totalità né altro io direi così e suona un po' perentorio ma insomma anche perché non vi ho restituito la dimostrazione in forma piena vi ho solo dato un ingrediente diciamo così della sua costruzione la sostanza non può essere data preliminarmente in una sede meramente logica di pura concepibilità né c'è modo di sospingerla in altra sede cioè nelle retrovie dell'immaginazione è per questo che la sostanza non può essere concepita se non come esistente perché essa è ciò rispetto a cui non siamo nella posizione di poterla non concepire cioè la sostanza si dimostra mettereci le virgolette così non essendo noi nella posizione di non poterla non concepire non essendo noi nella condizione di tenerla nel bilico del nostro concetto di quella che Hegel chiamerebbe rappresentazione non concetto vero in quel bilico in cui appare anche solo per un momento come ciò che può essere o non essere un simile bilico non è dato in natura per Spinoza almeno cioè non è dato da nessuna parte e se la logica è la sede intellettuale della concepibilità di ciò che è allora io direi senz'altro che la sostanza è ciò rispetto a cui non siamo in una posizione logica quindi così come si fa con Hegel dell'operazione non è solo vanlogismo razionalismo assoluto eccetera eccetera mi permetto di farla anche con Spinoza rispetto alla sostanza se no non si spiega perché Spinoza per esempio dice che siamo sopravanzati dall'infinita prepotenza della natura sopravanzati dall'infinita prepotenza della natura se la sostanza è nel concetto vi è senza autorizzazione preliminare senza prodegomini critici e senza condizioni logico trascendentali tutti ricordano il passo in cui Spinoza se la prende con Cartesio e con la sua idea che l'uomo costituisca un dominio all'interno di un dominio siamo in sede antropologica si tratta di questo di revocare l'invenzione di un simile dominio non solo psicologico ma anche logico in chiave genealogica si tratta di revocare l'operazione che esegue Platone nel sofista che dovendo ammazzare Parmenide e compiere il parricidio si deve inventare quella sede psicologica la psuche in cui trovano posto i significati che sono e non sono è esattamente questo che si tratta di perciò prima mi sono permesso di dire psicologico e logico insieme si tratta di revocare l'invenzione di un simile dominio cioè di una sede logica in cui noi pensiamo l'essere e il non essere delle cose che non è dato in natura che non si vede da nessuna parte che nessuno ha mai visto da nessuna parte tutta la difficoltà della dimostrazione mancano tre minuti sta nella resistenza a spogliarsi di questa immaginazione di questa signoria che noi pensiamo di avere sul pensiero potrei tradurla qui ora vado velocissimo perché in realtà non mancano manco tre minuti dobbiamo finire il tempo di uscire dall'istituto di corsa ce lo dobbiamo dare però è un l'ultimo punto che voglio toccare riguarda il fatto che quest'opera è un'etica e questa è la più grande concessione che posso fare a Enzo perché non nella forma del tornante campiano cioè di un'altra logica critica della ragion pratica dopo la critica della ragion pura ma io vorrei mettere in valore il fatto che appunto quello di Spinoza non è un sistema è un'etica è un'aimendazio come dire usando la parola del trattatus del trattatus giovanile ed è quello che penso di mettere in valore quando dico che in fondo la dimostrazione Spinoza Spinoza che si innervosisce dice cavolo la dovreste vedere sta cosa non ve la devo dimostrare ecco sta nella resistenza dicevo a spogliarsi dell'immaginazione con la quale ci assegniamo un posto libero quello che nega il punto di vista della riflessione esterna sgombro da ogni sostanza e da ogni potenza da cui poi vorremmo liberamente giudicare della sua esistenza quindi quando prendiamo questa postura ce la siamo già giocata alla sostanza ovviamente comporta una fatica il sbarazzarsi di questa postura cioè rinunciare a questa posso dire a pensare alla maniera di Kant e io sto dando enfasi a questi termini resistenza rinuncia perché appunto portano il discorso su un piano che ora accenno solo di un'etica perché si tratta appunto di una resistenza di una resistenza da vincere di una rinuncia da compiere e così via e proprio perciò non meraviglierà e concludo che questo che l'inciampo che ora sto denunciando è perfettamente indicato da Enzo nel saggio che ho citato perché per Enzo fa ancora inciampo così mi faccio da solo la tua obiezione se posso se questa coscienza di essere sopravvanzati dall'infinita prepotenza della natura se questa coscienza di essere sopravvanzati non sia essa almeno per nulla sopravvanzata questo significherebbe ah cavolo ho di nuovo pareggiato ho di nuovo pareggiato l'essere e il pensiero se posso dire che questa coscienza di essere sopravvanzati questa almeno non è sopravvanzata quindi ha voglia dire che è la precedenza del mondo eccetera eccetera se di nuovo di fronte al problema che o questa coscienza non è sopravvanzata e allora addio precedenza del mondo oppure sopravvanzata e allora addio questa coscienza e ora questa contraddizione sembra proprio che non possa essere lusa ma che cos'è questa da dove viene questa obiezione che cosa la innesca e che cosa dimostra se non ancora l'esercizio in atto diciamo così della riflessione io credo proprio che non la si possa evitare non si può evitare non posso evitarla questa obiezione di Enzo posso dire così però qui sono molto cattivo e perfido perché faccio esattamente quello che lui faceva quando si era discuteva con Severino gli do ragione salvo mettere tra parentesi quella ragione e quindi io devo dare assolutamente ragione a Enzo la farei più complicata di così ma sto davvero concludendo che sia sempre possibile una simile ripresa riflessiva che sia sempre possibile fare del mondo un'idea per dirla in termini spinoziano un'idea un'immaginazione che sia sempre possibile un simile imbozzolamento nel proprio dominio per non ritrovarsi esposti alla prepotenza del mondo è per l'appunto la resistenza di cui si tratta e come Spinoza sapeva che il falso non tramonta al sorgere della presenza veri così anche io penso che non più di questo si possa e si debba chiedere al vero di esserci di esserci solamente e se tanto come dice Spinoza no? soltanto esserci in muta presenza e quindi l'obiezione te la lascio volentieri grazie c'è tempo c'è tempo per dialogare o? sì? non posso dire altro che grazie continueremo la discussione in altro luogo e anche perché devono entrare altri autori nella così è troppo facile diciamo no 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 troppo facile non è troppo facile troppo facile per noi insomma se vogliamo litigare dobbiamo litigare su cose che ancora più come dire più pungente insomma più difficile apprendersi ma un attivo possiamo mettere un altro decennio che ci possiamo prendere la mia obiezione a Spinoza era semplicemente questo che non vedo come dalla totalità come dalla sostanza escono fuori i modi eccetera eccetera come dal tutto dal tutto le parti questa era la mia obiezione fondamentale e peraltro quando lo Spinoza perciò dico deve essere arricchita la cosa non ti posso rispondere adesso arricchita la cosa perché non mi sembra che c'è una deduzione della parte della singolarità della singolarità rispetto al rispetto al tutto come dal tutto le parti eccetera eccetera vi è però quando parla dell'etica e allora questo sarebbe però dovrei come dire articolare il discorso eccetera e adesso non sono in condizione di farlo dovrei prendere un filo diverso insomma quando si pone il problema etico e per me questo era importante in quel luogo vedere come invece quando si parla di una posizione di dovere eccetera eccetera beh lì entra la finitudine entra l'esplicazione della finitudine insomma perché dalla totalità il particolare vogliamo chiedere tutto perché perché la ricchezza del tutto ha bisogno della parte della parte divisa insomma attenzione perché la parte stessa nel tutto si rivela essa stessa il tutto nella totalità del mondo anche un come dire la punta di uno spillo è totale è totale perché come si fa come si fa a dire che quello faccio l'esempio più quello che richiamo sempre che è più facile come si fa a dire dunque chiedo scusa non avevo capito la no volevo dire una cosa le scatte di l'esempio si si tante sono le cose che possiamo che possiamo citare ma in questo senso dunque perché c'è il problema il tutto non si può pensare perché ovnis determinazione eccetera eccetera quindi non si può pensare benissimo si può pensare il finito si può pensare il finito per esempio il colore rosso il colore rosso è qualcosa di finito perché il colore rosso non è giallo non è bianco non è verde ma allora per definire il colore rosso dobbiamo dire che non è eccetera eccetera perché ci dobbiamo fermare a tre dobbiamo continuare allora facciamo che abbiamo detto tutto quello che caratterizza il colore rosso eccetera eccetera bene il colore rosso è parte ed è parte perché c'è il nero che non è rosso il bianco che non è rosso eccetera eccetera che non è se non ci fosse questo non è il rosso non sarebbe rosso quindi il non il non del rosso che è il bianco il non del rosso che è il celeste il non del rosso che è eccetera eccetera è costitutivo del rosso perché solo perché non è tutte queste cose è rosso ed allora per capire il finito che è il rosso che non è il colore ma è solo il rosso bisogna avere la totalità ecco tutto questo tema dove sta in Spinoza posso rispondere certo grazie è telegrafica non c'è Spinoza perché questo è Igel non è Spinoza benissimo bene bene mi spiego quando tu dici il rosso è finito perché non è giallo non è verde e non è blu stai pensando come Igel la risposta di Spinoza sarebbe per il piacere della discussione la comparazione è l'atto istitutivo della finitudine quindi il rosso non è affatto non giallo questa è tua esigenza di come devo dire di restituire in idea il rosso di spiegarti perché il rosso e siccome hai bisogno di spiegarti perché il rosso devi dirti ma perché non è giallo ma il rosso quanto a lui non se ne può fregare di meno del giallo non è affatto non giallo l'idea che il rosso sia equivalente a non non rosso questa idea ahimè va revocata in dubbio perlomeno e credo che questa sia come devo dire nelle prerogative del filosofo l'idea che ha sia uguale a non non ha a parte che non è vero manco in Igel perché Igel anzi questa identità va dialettizzata quindi è solo un momento dell'identità ma nel caso di Spinoza poi può darsi pure che questa pretesa non a caso il terzo genere di conoscenza in cui si dà la verità del rosso intuisce il singolare le parole non sono scelte a caso per Spinoza la scienza del singolare è una scienza intuitiva intuitiva non vuol dire che ha l'illuminazione vuol dire che coglie il singolare non nell'atto di comparazione con l'altro e naturalmente se io la chiedo tu senti la necessità di questa comparazione perché pensi il singolare come parte perché pensi la dialettica parte tutto e quindi la parte rinvia necessariamente ma il singolare non è parte il singolare non è parte il rosso è rosso punto naturalmente per vedere il rosso come rosso punto mi viene facile fornire esempi come ti devo dire come è naturale che sia trattandosi di terzo genere di conoscenza scienza intuitiva eccetera eccetera i primi esempi che farei li preleverei dal mondo dell'arte naturalmente perché sto dicendo vedilo come lo vede l'artista il rosso e allora capirai che cos'è il rosso perché finché lo vedi appunto con gli strumenti dell'immaginazione della credenza del concetto nel senso della semplice rappresentazione non vai da nessuna parte questa è almeno la predizione io non dico che vabbè però è il punto con il quale confrontarsi se uno non vuole pensare Spinoza già come Hegel e risolvere cioè impostare i problemi di Spinoza alla stessa maniera tu non vedi dove la deduzione della parte dal tutto ma almeno questo bisognerebbe concedere la Spinoza un conto è che lui proponga una deduzione che non funziona allora dice cavolo è preteso di propone una dimostrazione che non funziona arriva Kant e ti dimostra che il vecchio argomento ontologico non sta bene un conto è che tu non la dai proprio cioè almeno questo a Spinoza bisognerebbe riconoscerlo non è che c'è una deduzione mancante manchevole non ci sta proprio non c'è da nessuna parte Spinoza il quale dica adesso ti deduco il finito dall'infinito quindi evidentemente non sente l'esigenza di dedurre il finito dall'infinito allora se voglio entrare in dialogo con Spinoza mi devo domandare non come fa a dedurre il finito dall'infinito ma perché Spinoza non sente l'esigenza di dedurre il finito dall'infinito a questa domanda devo provare a rispondere non alla domanda come deduco il finito dall'infinito perché se no Spinoza come dice ci mancava una pagina diciamo così è un'opera interrotta pure l'etica di Spinoza ci manca la deduzione non ho capito allora non bisogna chiedere come il finito dall'infinito è vero a Spinoza no proprio no di Spinoza ci stiamo parlando dunque a Hegel lo si stiamo parlando di Spinoza allora a Spinoza non possiamo chiedere come dall'infinito il finito possiamo chiedere mi sembra di aver sentito questo mi sembra perché per Spinoza invece c'è la deduzione dell'infinito dal finito ah no non c'è allora in che rapporto stanno l'infinito e il finito non c'è stato il rapporto in un rapporto che per semplicità io direi così di identità se mi fosse consentito una parola speculativamente più impergnativa direi di indifferenza ma diciamo di identità di identità vabbè di identità il rapporto di identità è chiaro che per Spinoza sì il rosso è tutto è tutto il colore ho capito e il bianco ma se il rosso è tutto non c'è nessun bianco ah ho capito allora in allora in non avevo capito questo di Spinoza proprio non l'ho capito che il chiodo è tutto il mondo che il chiodo è tutto il mondo e che quindi se c'è il chiodo non ci sta dal tavolo oh guardate un poco però poi ci vedo il tavolo a meno che a meno che tu non abbia ancora compiuto la dico così sì 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 con tono vagamente misticheggiante sì l'itinerario momentis di Spinoza sì sì ho capito finché tu compari il chiodo a tavolo è chiaro che tanto il chiodo quando è il tavolo è il chiodo è semplicemente una parte che sta nel mondo insieme a tutte le altre vabbè vabbè non sarò mai Spinoziano perché non lo capisco questo è abbastanza sicuro dunque vabbè noi io 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 dunque mi stai dando mi stai dando troppa ragione però già perché Spinoza mi ha sempre fatto suscitato suscitato come dire il sospetto di come dire di una filosofia che non io voglio conoscere il mondo ovviamente ovviamente si potrà dire se vuoi conoscere il mondo come tu lo pensi eccetera eccetera allora io cerco di mettermi tra parentesi e chiedo semplicemente ma il quadro il quadro c'è ma questa domanda mi permette di sì è la domanda che si fanno tutti quindi non è un punto di vista particolarmente critico ma io no ma io non è proprio l'inizio del filosofare perché il il risultato presuppone un ben altro strappo rispetto perché pensare che ci sta il penne e il chiodo c'è bisogno della filosofia quindi fare il problema di come ci siano penne e chiodo comincia a essere un problema per la filosofia è benissimo è benissimo ma vabbè è cambiata la cosa per me ma meglio quello che hai detto tu che per me siamo nello stesso luogo ecco siamo nello stesso luogo e allora com'è che noi poi pensiamo che il chiodo è diverso come dire dalla montagna eccetera eccetera c'è una ragione oppure ma com'è che Talete pensava che tutto è uno cioè ora no 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 Talete lasciamo la prima cosa che mi è venuta in mente vabbè vabbè però allora andiamo da Talete e vediamo che cosa diceva che il mondo è uno ma io lo posso dire pure io che il mondo è uno insomma non lo so e anzi è una ragione che da solo non c'è nulla ma non c'è una affermazione c'è il chiodo e c'è il tavolo siamo sullo stesso livello diciamo così cioè siamo quello che diceva Francesco siamo al noto che proprio perché è noto non è conosciuto che c'è la pena e c'è il tavolo è il noto di cui parlava Francesco all'inizio vabbè non usiamo Hegel in questa maniera però ti pensi sei troppo intelligente per fare una cosa così non evitiamo perché se no dice no 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 ma questo non lo posso conoscere insomma quindi questo è come tutto il mondo insomma io adesso veramente sono richiamato a a difendere una filosofia che mi fa vivere il mondo recentemente ho come dire mi sono occupato di questo problema non riguardo a me ma riguardo ad altri e così insomma ci sta un rapporto no 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 dobbiamo chiudiamo una filosofia che fa vivere il mondo ma se c'è una formula che è impiegata negli ultimi 10-15 anni è stare nel mondo senza essere del mondo senza senza essere del mondo non nel mondo del mondo del mondo esattamente questo è benissimo formulazione pascaliana quindi figuriamoci che di cui conosco tutte le risonanze dopodiché non è la maniera di stare non è che dall'altra parte c'è una filosofia che non conosce il mondo non vuole stare nel mondo tutto il contrario poi magari non ti convince il modo in cui ci sta però non è che sape che tutto si può rimproverare una filosofia diciamo così dell'immanenza meno che non sia del mondo la filosofia dell'immanenza ma io dico caro può non essere del mondo scusami un poco scusami un poco allora io ti dico questo Spinoza tutto fa tranne che una filosofia dell'immanenza perché non mi spiega le cose delle cose dell'immanenza l'accusa di acosmismo che infatti tu muovi tale qua lì sono partito vabbè vabbè insomma questa è una posizione che non viene superata di fatti debbo di allora allora no no voglio voglio finire aspettando ma l'hai detto la resistenza è etica infatti tu probabilmente dicendo io voglio una filosofia che mi che sia del mondo stai muovendo un'obiezione di carattere etico morale sì certamente certamente io mi pongo la domanda che cosa significa fare filosofia insomma da questo punto di vista è una domanda iniziale perché quando mi dicono la filosofia ecco per esempio io quando sento ma la filosofia ho avuto anche un premio dei centri di scienze filosofiche ma perché la filosofia è una scienza ma me lo dite voi non mi pare credo che sia un abito un abito di vivere il mondo questo qui questo l'ho pensato da sempre insomma non credo che si possa dire scientificamente il mondo finisce il mondo resta eccetera eccetera questo ripeto da questo punto di vista va bene e da questo punto di vista siamo tra le risposte più belle che si sono state date alla domanda che cosa significa la filosofia è quella di Spinoza l'uomo libera non l'altro pensa meno che alla morte questa risposta di Spinoza è la tua domanda lo so se la filosofia mi mette in condizioni di fare questo io ci metto la firma sotto poi di nuovo può essere che sia invece una grandiosa rimozione della natura finita dell'uomo questo non pensare alla morte non è che non sia diciamo così che non sia avvertita l'esigenza per uno che scrive un'etica si scrive un'etica si sta ponendo precisamente la domanda come sto al mondo se no non scriverebbe un'etica sì sì appunto appunto mi interessa la risposta non la domanda che si pone la domanda eccetera ma la risposta è quella come sto nel mondo dico che faccio adesso una filosofia e dico io come sono bello come sono ricco non ho pensieri vivo bene eccetera eccetera e semmai mi stanno uccidendo o fare cose peggiori eccetera scusate va beh ma questo qui siamo arrivati a come dire a scherzare sulle nostre cose insomma e chi riesce a scherzare insomma qual'era la dizione che aspettate ecco ecco è sempre Pasquale semmo che è la filosofia semmo che è sempre Pasquale e questo è un gassiato Pasquale ha finito con Spinozzi proprio no no certo 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 a proposito di semmo che è sì sì è un salto significativo va bene va bene ti ringrazio ti ringrazio grazie a tutti grazie a tutti